Allora ragazzi, io... Ormai facciamola completa Volevo montare sti Lego Facciamola completa Mitrina, ieri poi... Non è diventato Lego Inside No È semplicemente che volevo montare i Lego Oh Quindi, sì Tanto però oggi la facciamo comunque Che parliamo anche di altre cose Sì, ma gli siamo divertiti Siamo divertiti, cioè mentre... Un sacco di clip, ieri Allora, oggi ho deciso di montare Quella casa di Fuffi Grazie Cacure, grazie Grazie La casa di Fuffi Ah, informazione Mi sono comprata gli altri due set Toccava farlo Non ho resistito, perdonate No, e non solo È venuta da me Poi ieri sera ho detto Ma voglio comprare pure i fiori dei Lego Voglio comprare pure Super Mario Mi sono appassionata dei Lego Già subito Allora, Lego Ripeto ragazzi, non è sponsor Ho comprato tutto con i miei soldi Vabbè, sì Questo per la Gcom Per l'associazione consumatori Non è sponsor Assolutamente Venga, ora uno non può parlare dei Lego Grazie Watanuki Grazie Watanuki Kun Uno, grazie mille Grazie Peppe 8999 Grazie mille Grazie ragazzi Allora Quindi apriamo Qua Ah, ecco Anche il Nest Quello l'avevo comprato io E non l'ho mai montato Il Nest Sarebbe carino farlo in live Perché il Nest tra l'altro è bellissimo Però secondo me Quello ci vuole tanto tempo Stavo vedendo quel blocco notes Che è il blocco notes Ah, sì Sono appunti due Sì Quello ci vuole tanto tempo penso Perché Sono tipo sette miliardi di pezzi Sì Non lo so Comunque direi bando alle ciance Bando alle ciance Anzi leggo bu Leggo bu Sì Se vogliamo prendere un argomento Lo possiamo fare Nel frattempo Sì E ci sono due personaggi Ovvero Fuffi E Cervina Sì E poi Internamente è così Vabbè È inutile che guardiamo La montiamo E buonanotte Verrà pure meglio Oh ragazzi Per chi si stesse preoccupando Poi ieri I pezzi avanzati Sono ancora qua Sono ancora qua E ne avanzeranno altri Voglio supporto Ho smesso di giocare a Judgment Per guardarvi Dice Simona B Hai visto Simona B Però brava che stavi giocando a Judgment Brava Simona B Gioca a Judgment Con Player Insider Di sottofondo Tra l'altro poi dopo In seconda serata Andiamo avanti Su Lega Dragon Infinite World Come stiamo? Benino Non benissimo Non siamo dei fiori di campo Sempre meglio Dai ragazzi Sto giro Brutta roba Però Che volete che vi dico Ogni tanto capita Questo è il manualino Che cutie Oh E io esco le cose Che cutie ragazzi Le scatole abbiamo detto Le stiamo buttando Giusto? Le scatole le stiamo buttando Io non siamo Come dire Non siamo Non collezioniamo le scatole Non siamo collezionisti Lego Abbiamo fatto gli esami Allora Raiden ha fatto le analisi del sangue Sì Sì Io non me le sono fatte Per non sbagliare No Bene Allora Bustine numero uno Raiden Bustine numero uno Bene Bustine numero uno Buttate le scatole Pazzi No vabbè Ma dei Lego sì Scusatemi Casa mia Non c'entro più nemmeno io Non c'entro più una mazza Se io mi metto a collezionare pure i Lego Siamo fregati Allora La bustina numero uno è minuscola Sì Le altre bustine Leviamole proprio Questo non è senza bustina? Questo è senza bustina Questa è la base della casa Molto bene Diamoci una mo Nel senso Facciamolo di gran carriera Sì Facciamolo di gran carriera ragazzi Cioè non è che qua ci mettiamo a perdere tempo E soprattutto Parliamo di vari argomenti Anzi fateci domande Se volete sì Varie Fateci domande varie Nel cil Nel cil Allora intanto dobbiamo montare Fuffi Fuffi Tiene i piera Montare i fuffi è facilissimo Cioè i personaggi sono la cosa più facile Basta che ci azzecchi la testa Ci azzecchi le gambe Non è acqua No la gonna Penso la gonna La gonna Ah c'è la gonna La gonna lì Questa è la gonna Quella è la gonna Bene 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 Si mette qua così Questa è la gonna Leggi Raga io collezioni lego Le scatole le tengo Ma ci sta Non tenerle Tanto di base Se li aprono E li montano Il valore scende di brutto Ma chi se ne frega Abbiamo tante altre cose Di valore Con le scatole Mi sono rotto le palle Onestamente Di tenere le scatole Di ogni cosa Per cui Vabbè Però fai bene Se tu Ti capisco House of Gun Ti capisco Di Mario Kart lego Che ne dite E non lo so Non l'ho visto bene Vabbè Adesso ci stiamo appassionando Le lego quindi Come dire Soprattutto Midnina Quindi Il fiocchetto in testa Il fiocchetto in testa Te lo do io il fiocchetto in testa E uno Un fiore qualunque Ah un fiore qualsiasi Sì Proprio hanno fatto una cosa Non so sprecato Gli stessi fiori che metti Nelle Porca Nel giardino Va bene Allora Allora Via Rubrica sepolti in casa Buy player inside Quello da mo Quello da mo C'è la fionda C'è la fionda Bene Ma possiamo andare un attimo avanti Perché questo è un po' poco Allora Intanto prendiamo Dobbiamo fare la classica Questo pezzo fondamentale E lo mettiamo qua Abbiamo fatto la classica impalcatura Del pene Poi ci mettiamo Questo Che dobbiamo fare là Questo La staccionata La staccionata La staccionata Azzicca Azzicca Molto bene E io direi Aspetta Azzicchiamolo Midna Secondo te Nella prossima console Nintendo Ci sarà un nuovo Animal Crossing Oppure un mega aggiornamento New Horizons Sì Sì Forse la domanda è Ci sarà l'uno o l'altro Allora Secondo me è un peccato Fare un nuovo Animal Crossing Perché Avendo fatto New Horizons Cioè secondo me è logico Andare ad aggiornare New Horizons Sì Che si regge benissimo Come live service Come live service Invece di fare un nuovo Animal Crossing La zucca Raiden vi faccio vedere Cosa sta facendo Perché lui si tiene i suoi segreti Sì Sta facendo l'ortino Le zucche e le carote Esatto Una zucca e una carota Hanno lo stesso identico colore In realtà differisce un po' Però Vabbè Qua Non stiamo a vedere Fa vedere Fa vedere l'ortino Faccio vedere Che io ci aggiungo Come da disegno La caraffa Non è la caraffa L'annaffiatoio L'annaffiatoio Che è più grande della zucca Guardate che chiarino Cioè già direi Che questo vale l'acquisto Poi Prendiamo questo E ci mettiamo Codesto E ci mettiamo questo Il collezionista professionista Dice a Cacure Ciao Collezionista professionista Per fare sepolto in casa Deve avere la classica stanza Con le scatole Che arrivano sino al tetto Bro Lo so Ma quelle ce le abbiamo Allora Vi faremo vedere La nostra collezione Come prima puntata Pilota Della seconda Non si può dire pilota Perché la seconda stagione La seconda stagione Di Collector Partirà da noi Come è stata La prima stagione Di buon auspicio Buon augurio Soprattutto perché Abbiamo cambiato Un sacco di cose Il tempo di sistemare Le ultime cose Ed è fatta E vedrai Che di scatole In realtà Ne abbiamo pure troppe Allora Raiden Fammi fare a me No E perché non si ve Cioè L'ho messa dal mio lato Questa è una cosa Routinaria Fregatene Per adesso Io sto giocando A The Sims 4 Ieri mi hanno detto In live Che in passato Ci giocavate pure voi Non giocate più No Ma c'è bisogno Che te lo dicevano in live Basta che vai su Player Insight 2 Trovi la casa Casa Player Insight No no Secondo me hai fatto Una cavolata Hai fatto giusto Hai fatto giusto Ah perché questo È il banco da lavoro Facciamo vedere Allora Stiamo facendo il banco Da lavoro Ma E ci Ci vanno Due pezzi davanti E due pezzi Due Di sopra Due Così Sì E fate un po' leggi Se fanno domande intelligenti Tre e quattro Le domande non intelligenti Non le leggono No scherzo Oh Anzi quelle non intelligenti Sono più interessanti Poi Facciamo Questi due Ci devi mettere Qua Grazie Gunpowder Uno e due Grazie mille Oh ma che caspita Ah E poi a tetto Ma che cute Ci metti uno Due tre e quattro Su questi Spacchimi qua Ci metti uno Due tre e quattro E possiamo girare No 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 Io non ho visto niente ancora Cioè se stavo leggendo La chat Vai Vai Azzicca Azzicca Vediamo Vediamo Grazie Gunpowder Grazie mille Piuttosto Sì No stavo leggendo domande Non ce ne erano Se non ce ne sono Trattiamo noi un argomento Tipo Tipo Ah vabbè ragazzi Vi abbiamo detto Ora i video riprendono Oggi già ne abbiamo registrato uno Date nate Mai Mai siamo stati così Obiettivamente ragazzi Mai Mai è successo No allora Non è mai successo E stavolta Purtroppo non avevamo Video di riserva Quindi è andata così Anche se a me Avere video di riserva Non è che sia una cosa Che mi faccia impazzire Aspetta la coppola Che la voglio mettere io Scoppolo Molto bene Siamo già alla pagina 14 Scusate collezionisti di lego Ma voi collezionate pure I manuali No quelli abbiamo Buttati di prepotenza Ragazzi Ho appena finito di installare L'Ika Dragon Non vedo l'ora di iniziarlo Bravissimo Bravissimo Ma quale è L'Ika Dragon? Yakuza L'Ika Dragon L'Ika Dragon Infinite Tu hai detto L'Ika Dragon Oh questo Questo Lo devi mettere qua Ma che cute Oh e qua ci mettiamo gli attrezzi No ragazzi Va impazzissimo Questi puoi metterli come vuoi Il primo dice Vabbè sì Ok Yakuza L'Ika Dragon Uno Due Il martello Martello signori Se non avete mai visto un martello È fatto così E la fionda E la fionda Ne abbiamo due Sono avanzati già dei pezzi Sono avanzati Lo so che è il momento Che attende di più L'avanzamento dei pezzi E ve li mostro Sì ho comprato i due set rimanenti Questi sono i pezzi avanzati Che mettiamo nell'apposita sezione Pezzi avanzati Non solo ho comprato i due set rimanenti Ma mi sono procurato anche Il set quello extra Dulcinea Quello lì Ce lo sta procurando il nostro amico Uccio Sidosi E' chi se no E' chi se no Di livello 17 Procurando semplicemente perché dice Ma non te lo puoi comprare Costa 3,99 euro Sì E' perché non si trova più sul sito ufficiale Allora adesso serve la base Grazie Silgu Aspetta dobbiamo montare Cervina Cervina Anche Cervina c'ha il coso Lo stommino Che festeggia qualcosa Come mai ci hanno sti Non lo so è una cosa che nel gioco neanche c'è E qui gliel'hanno messo Ecco hanno deciso Ci facciamo domande Vabbè un po' più drogati Avete saputo che Goranson Quando ha vinto gli Oscar Ha detto ai miei genitori Grazie per avermi dato chitarra e drum machine Invece dei videogiochi Non so neanche chi sia Goranson Ognuno giustamente No è un compositore Ognuno giustamente È contento per quello che fa Io ringrazio di avermi dato i videogiochi Anziché tutto il resto Esatto Grazie ai genitori Che mi avete dato i videogiochi E non le chitarre Se ora fatturiamo milioni È grazie alla nostra passione Per i videogiochi Non avete lo store ufficiale in città da voi Sì 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 Ci abbiamo lo store ufficiale Però ci scocciamo ad andarci Le carte di Fallout le avete prese No ma le devo prendere assolutamente No ce le stanno mandando Ah questo è avanzato Ce le sta mandando Bethesda Dovrebbero arrivare Non so quante ci le mandano Se ci mandano solo un sample Noi compriamo le altre Via Che lo sanno che siamo collezionisti Quindi ci tengono Però Uno Avete mai visto i film della saga Scream? Tu rispondi un po' le domande Così io comonto Non mi sono Allora Mi piaciucchiavano quando ero ragazzino Perché esistono dal 2000 Se non sbaglio il primo è del 2000 O del 99 addirittura Ma lo sai che io forse non li ho mai visti? Mi piaciucchiavano però non così tanto Devo dire la verità Era quando c'era Neve Campbell Io credo di non averli mai visti Ce ne sono tanti Gli Scream Cosa hanno dato i genitori a Rocco Siffredi? La dimensione artistica Che lui poi ha speso In modi assolutamente consoni A quello che doveva fare Allora Mettiamo Ah il cazzo volevo dire Sì Proverete il nuovo Alone in the Dark? Sono curiosa Ragazzi Ora ritorniamo a fare i video Sono desolato Che praticamente Questa ultima settimana e mezzo È come se non fossimo quasi esistiti Però Sappiate che in realtà Nelle intenzioni nostre Oltre che Farvi Proporvi le uscite del mese Con tante uscite È anche quello di provare più giochi Sul secondo canale Eventualmente il live Poi ricaricate sul secondo canale Sapete I titoli meno importanti Non facciamo una live Eppure il video Facciamo una live E poi ne estraiamo il video Tanto ormai la qualità delle live È praticamente quella dei video E E poi vengono certe volte Più divertenti dei video Fatti apposta Sono più spontanei Sono più cari E vede effettivamente Siamo più Più scialli Più sciolti Per alcuni giochi Per invece i giochi Sono sotto embargo Che possiamo registrare prima Per poi pubblicarle Prima che magari Escano al pubblico E quelli li facciamo I fatti nostri Li facciamo vedere Inoltre ragazzi Questo Vabbè L'ho già comunicato Insomma poi ci sarà Come prossima serie Sul secondo canale E in live Ci sarà ovviamente The Ring Quella l'ho comunicata Già quando È stato annunciato Il DLC Però aspetta Ovviamente è fatta da Raiden Sì Eh sì Quella sì Tu no No Il primo era interessante Poi faceva una mossa Di marketing assurda Con Drew Barrymore Una cosa di Scream Ma sai cosa Non è che io penso Alla serie di Scream Come una delle mie cose preferite Ma sta là Carina Mi interessa troppo Film horror preferito Film horror preferito Allora a me piacevano tantissimo I teen horror Io direi Shining Sono banale Allora ragazzi C'è stato un periodo Sì Ma io non riesco a guardare bene gli horror Perché mi spaventa Shining è uno psycho thriller Diciamo Vabbè Definiamolo un po' horror Dai Secondo me tutte le opere di Stephen King Non sono horror Ma io parlo di Kubrick Sì Vabbè Però è sulla base di Shining Di Stephen King Sì Un po' preferito il film di Kubrick Vabbè Kubrick Perché quello è bellissimo Qualsiasi cosa faccia È straordinaria Però Per quanto riguarda i film Diciamo io sono I film horror Ho avuto un mio Vasto periodo Di Passione per i film Teen movies Horror Teen horror Movies Cioè Che ne so Wrong turn So Che so Non è teen Vabbè Però ci siamo capiti So Non voglio dire Final Destination Perché no Vabbè Final Destination è un po' So bad it's Però sì Mi piaceva proprio Quando in realtà Diventavano un po' ridichi A me faceva ridere Fa ridere Final Destination Che ne so Drag me to hell Che è una cazzata Però Però In realtà non è male Cioè di base È una cazzatona Però non è male Ecco Cose così Guardate che carino Qua ha l'effetto Tipo muretto Sì Super carino Con questa telecamera In realtà non è male Con le giuste luci Questa cosa qua Eh? Non è male Questa Questa cosa Hai detto che non è male Non è male Io nel frattempo stavo leggendo Per come la vista Sì sto facendo il muretto È buona Non è che sia scarsa Quando il prossimo video acquisti Il prossimo video acquisti Io direi Prestino Direi che abbiamo abbastanza cose Prestino Prestino Sì 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 Oh Figa Ok tra l'altro vedi che c'è pure la cosa Che non ti fa cadere i pezzi In questo tavolo È pazzesco Sicuro che già non sia caduto di tutto Non è caduto niente Dammelo per a morta Non è caduto niente Eccolo per a morta Ci devi mettere però pure il fracasso Ci metto anche il fracasso Certo Non so se significa il fracasso Non è il fracasso È la soglia L'uscio Lo zoccoletto Oltre ad Animal Crossing Avete altri Lego Abbiamo quello del NES Sì Che non abbiamo montato Quello di Star Wars Uno di Star Wars Che però non credo che monteremo È quello di Sonic Abbiamo il primo livello di Sonic Green Hills Nessuno che nomina la casa Non l'ho mai visto Sì vabbè ma quelli non sono Io stavo parlando di teen horror Sì La casa è storico La casa Venerdì 13 Che c'entra Questi sono i classici Grazie Furia Kid 00 Grazie Che ha regalato un abbonamento Grazie Guardate come prende forma nel frattempo Ci voleva Animal Crossing Per farmi montare i Lego Aspetta perché sì 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 Va bene Devi Devi Il set Lego di Horizon è bello Ah sì Hanno fatti i Lego di Horizon Ma allora posso dire una cosa Di Horizon Noi abbiamo la Collector's Edition E dentro c'è la La statua dell'elefante Quello meccanico Mi ricordo C'è un nome Eh sì Il mammut Zanna Come cavolo si chiama ragazzi In Horizon Come si chiama Vabbè Quello Se devo dire No non è il collo lungo Mammut Un po' Il mammut Non mi piace per niente Non è una bella figure Devo dire E poi A lui è fatta Troppo piccola E con pochissimi dettagli Non hanno fatto un bel lavoro Si illumina Stiamo parlando della Collector's Edition La Collector's Sì Si illumina Ah Tremor Zanna Tremor Zanna Si illumina E' carino In realtà qualitativamente Non è neanche male Però come soggetto Secondo me Proprio Così così Il fatto è che era il soggetto Protagonista anche del trailer Per cui l'hanno mantenuto Migliore e peggiore adattamento cinematografico Di un videogioco Eeeh Ma l'abbia fatto una top Su questo argomento Ma sai che in realtà Io ti vado a rivalutare Tutte le opere Di quel Minchione Detto affettuosamente No Non lo dire Uebole Di Uebole No non le puoi rivalutare Eppure è vero Non le puoi rivalutare Se ti riguardi oggi Far Cry e Postal Fanno talmente schifo Che fanno il giro E diventano belli No ragazzi Avete visto Far Cry Voi Il film Ah perché Postal 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 è il delirio Grazie curati No grazie curati Porcal Per esistere Visto che siete Il momento Qui and day Uno a tema Migliore e peggiore Ah Ho già letto Allora adesso Ne leggo una io Allora visto che siete Il momento Qui and day Uno a tema Migliore e peggiore Adattamento cinematografico Quanto sei simpatico Leggi uno tu Leggi quello evidenziano The Quarry con la scoreggio faceva paura Io non capisco Ma possiamo chiederlo Infatti esiste il film di Far Cry Ma lo sapete che ora Che ci penso È una cosa bruttissima Però in realtà Sono talmente brutti Ma di quanti anni fa è Sto film di Far Cry 15 Sono talmente brutti Questi film Che fanno il giro E rimangono brutti Però Fanno il giro Se non altro Ah fate il giro E allora Dove siamo Io non sto Giocando No no tu devi fare Allora io adesso chiamo A mia mamma E mi faccio Venire a prendere Ho lo zaino La cartella di là Con l'astuccio Dei colori Non te li presto Come ti avevo detto Ragazzi da voi si dice Cartella o zaino Noi dicevamo Noi dicevamo Sempre cartella No e lo zaino Sono due cose diverse C'era lo zaino E c'era la cartella Oh devi smolazzare Io sto smolazzando qua Aspetta che io mi confondo Smolazza questo Non mi ci stai facendo giocare No no Perché tu devi fare Perché devono vedere ragazzi Io intanto posso smolazzare questo Cartella se sei nato Prima degli anni 40 Esatto Un po' sì No Quello è l'abecedario C'è uno lungo grigio? Un lungo grigio Un lungo grigio? No Però non si deve mettere Un lungo grigio No E mica Questa è la smolazzatura di sotto Ma che caspita sta dicendo? Meno ma no C'è questo semmai Questo li dovevi mettere Vedi? Ah dammi E poi Devi fare un vaferone Devo fare un vaferone Sì Ma non è così lungo Sì è lungo È lungo o non è lungo? No è così Sì e ci devi mettere due piccoli Uno e due Uno e due Sì Non siamo grandi fan Scusateci No 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 Chiedetemi un sacco di altre cose Sono fan di un sacco di altra roba Però di Star Wars Sono simpatizzante Cioè non è che ci fa schifo No 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 Sono simpatizzante L'abbiamo visti tu Cari Beh c'è sempre piaciucchiato Così per la serie Vabbè non c'è cambiato il mondo Ecco questo Lo so ragazzi Lo so I fan di Star Wars Si incazzano Però Non fai che niente Vabbè non penso Siamo fan di talmente Tante altre cose Io vi potrei tirare le orecchie Per mille altri Non esiste il film di Watch Dogs No Non mi pare Del film di Watch Dogs Che ne pensate? Non esiste Non mi pare che esista Non mi pare che esista Cosa hai fatto qua? Stessa smolazzatura Devi fare qua No no Aspetta No No non è vero Eccomi no Ti inventi le cose Rai Ma vedi che qua c'è doppio strato Invece qua c'è una sola Doppio strato Vedi Faferone Non l'hai fatto Ah hai ragione Vai smolazzalo Eh ma qua fanno confondere Porca Smolazza Eh sì Lo devono fare Questo l'avevo sentito Grazie Armi 0404 Grazie mille Per i tuoi undici mesi Grazie livello 1 Grazie Non per dire di essere Alla parte di Midna Ma anche io dicevo cartella Sì vabbè Non è detto Perché se alla parte di Midna Non sbagliassi E poi Voglio dire In Puglia Non è che stai dicendo Sai In un posto in cui Non ci sono flessioni Dialettali Siamo tutti meridionali Parliamo tutti male Questo è Avete visto il film Sulle origini di Tetris Sì l'abbiamo visto Bello Ci è piaciuto Vero? Bello con riserva Bello con riserva Bello con riserva Secondo me Tutta sta schiumazza Dalla poco Decente Decente Bello È un bel film Sì Va bene Va bene Beh Raiden Tu però sei un po' Esigente Sì Sei un po' Critico Come dire Lara Croft Interpretata meglio Da Angelina Jolie O da Alicia Vigan Allora no Da nessuno delle tue Da nessuno delle tue Tu stai zitto Angelina Jolie è buona Però Secondo voi Come attrice È una brava attrice In realtà Changeling è un ottimo Adesso io ti picchio Angelina Jolie È Lara Croft Lara Croft È Angelina Jolie Sì ma il film Era cringe Lei faceva le pose cringe Era una stupidata Il film Ma perché Sì ma il film di Tomb Raider Ma cosa ti aspetti Però ragazzi La Vikander No la Vikander no Ma si è vista più Si è vista più la Vikander Ha fatto più un cazzo Ora è incinta di nuovo Ho capito Che questa non fregava Niente Questo è Gossip by Midna Eh Di Michael Fassbender No non dico che non sia brava No no Non abbiamo detto Non abbiamo detto Che Rikander non è brava Che non si è vista più Questo stiamo No che secondo me Non è Cioè il personaggio Lara Croft Perché hanno fatta Lara Croft E la nuova edizione Eh a me non mi piace A me non mi piace Va bene Va bene Comunque La nuova Lara Croft Cioè spadiamo Spadiamo il video Non è Cioè è formosa pure La nuova Lara Croft Ma non è solo Per questione di formosa Deve essere anche Ammiccante Cioè Deve essere Spaccacuni Deve essere Esatto E la deve arrivare Con gli occhialini E romperti la faccia Anche se Niente La stai salutando E ti deve spaccare il culo Ma che vuole Ah uno sopra l'altro Di questi Vai Cioè devo mettere due Sì devi accroccare Uno e due Uno sopra Sì Evidentemente Stessa cosa All'altro lato Evidentemente Sì Perché Sì 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 Stessa cosa Sti direttamente Esatto bravo Faccio Tipo il premix Poi Facciamo questo E Ficchiamoci questi Uno E uno Due Posso fare Uno Rebel Moon Non l'avete visto Giugno Esce No No ragazzi Abbiamo avuto un periodo Di Stasi Io ho visto un sacco Di cose su Netflix Soprattutto però Documentari Ma poi ragazzi Ragazzi Guardatevelo per cortesia Ragazzi Fatelo per voi stessi Un documentario Straordinario Sulla seconda guerra mondiale Su Netflix Che veramente Uno dice Ma sai Minchia Se l'avessi visto a scuola Questo qui Avrei imparato Molto prima Ma perché Per carità Sapevo studiare Però Documentario Sulla seconda guerra mondiale Con riprese A colori dell'epoca Ovviamente Rifatte Penso con l'IA Penso con Insomma Varie tecniche Ma veramente Stardinale Ora non mi ricordo Come si chiama Il documentario Però è veramente Fatto bene 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 E poi Sempre su Netflix Abbiamo visto Che ne so L'ultima serie Che abbiamo visto Era la caduta Della casa degli Asher La casa degli Asher No Abbiamo visto Che ci è piaciuta E' stata quella Ma Ma era una serie Quella Non era affatto male Non era un film Era una serie Sto parlando di serie Sto parlando di serie Ah si Poi un sacco di documentari Ho visto Documentari True crime Un sacco di roba No No invece ragazzi Non ho visto Più niente Ho solo giocato I videogiochi Di vedere cose Serie Proprio film Zero Non ho visto più niente No io sempre Continuo a vedere Un sacco di robe Infatti sul mio canale personale La prossima serie Che vedrò È Fallout Ho visto Super Sex Di recente Ho visto Un po' di robe In realtà ho visto Un sacco di cose Però È che non ve ne parlo più Però Sì Mi piacerebbe ritornare a parlarne Tra un video e l'altro Sul mio canale personale Ci ributto cose Sulle serie tv E i film Perché ci sta Perché sennò Però Quelli saranno i video Secondari Grazie alla France Grazie Lo sapete che a settembre Esce Beetlejuice 2 Sì sì Lo avevo sentito Anche se Non ero tra i principali fan Dell'1 Però Cos'era Spiritello Porcello Quello di Tim Burton Super Sex com'è? Ma Secondo me c'è poco Da fare schiumazza Per Super Sex Nel senso Schiumazza non se ne fa per niente Non è una serie Così Così Raffinate È una serie normale È una serie biografica Che tra l'altro Fa capire quante Che vita difficile Abbia avuto Rocco Sifredi Nella prima parte Della sua vita È questo personaggio Che lui ha Come modello Non sto spoilerando Però c'è un personaggio E lui ha come modello Di vita Che è un personaggio Tossico Tossicissimo No? Detto questo Poi si insiste anche Ma non troppo Sul discorso pornografia Inevitabili Scene pornografiche Nel senso Soft ovviamente Ma non troppo soft Una via di mezzo Che Che Fanno un po' cringiare Però vabbè È caduto qualcosa L'ho sentito Perché tu sei Sei raffinata Sei proprio Delicatissima Porca miseria È caduta una cosa minuscola Ma Ah non ha fatto neanche E là E là E là Vedi quella cosa verde Sì però E' una serie Su Rocco Sifredi Mettila a zero E questo è il punto No Allora guardatela Io per esempio Non mi interessa guardarla Allora te la puoi guardare Perché effettivamente Lasciando perdere il fatto Che sia Rocco Sifredi Quello che lui ha vissuto È interessante Però vi dico una cosa Ragazzi Rocco Sifredi Questo l'avevo detto Già pure l'altra volta Rocco Sifredi è uno Che se voi va andate A ascoltare le interviste In ogni intervista Lo stesso fatto Lo racconta In mille modi diversi Quindi Qual è la verità Rocco Sifredi Secondo me Mezzo pallonaro c'è Cioè è uno che Le spara Le minchiate Le racconta Le romanza Le dice come le dice Vabbè poi comunque In generale sarà romanzato La serie Però Però attenzione Questa serie è romanzata Ed è espressamente romanzata Perché è scritto All'inizio di ogni capitolo Liberamente ispirata Alla vita Di Rocco Sifredi Quindi è liberamente ispirata Di vero Ci sarà il 30% Però io credo Che le vicissitudini Che lui ha trascorso Ha passato Con la sua famiglia Magari quelle sono Tendenzialmente vere Ma romanzate Perché certe cose E altre invece Quelle sulla Sul suo trascorso pornografico Sono accennate In realtà sono accennate Però se voi andate Io ho visto varie interviste Rocco Sifredi Perché ero sempre curioso Di vederlo come personaggio Mi stava molto simpatico Mi ispirava Anche da ascoltare Una volta ne vedi Ne ascoltai una Quando era stato invitato Da Piero Chiambretti In quel late show Che faceva Chiambretti Ma nel 2011 Le stesse cose Le aveva già raccontate Alla radio Qualche Il giorno prima Ed erano Molto ingrossate Come fatti Molto diversi Proprio diversi Quindi Vabbè È da prendere con le pinze Secondo me Non è così biografica Non è una biopic Così fedele Ma chi se ne potte Si lascia guardare Non è una brutta serie Attenzione Tuttavia Capisco che Aver dato la priorità A una serie del genere È principalmente Perché è una serie Proriginosa Che infatti Prima in classifica Che la gente Se la guarda Perché è una sorta Di Metapornografia Che viene vista In questo Quindi Vabbè Costa scusa Oh Tra l'altro Io Ragazzi Proprio in quel periodo Diciamo Del Momento prime Dirò così freddi Un mio contesto Cioè Per quanto riguarda L'analisi Lo studio Del mondo Della pornografia italiana In quell'epoca Ce l'ho In che senso Nel senso Che io ero In curiosità Andavo a vedere pure Le interviste All'attrici Non si poteva All'epoca Come cazzo Te li vedevi Non c'erano No certo Quindi qualcosa Se passava Circolava tra gli amici Sì Ma era veramente Roba risicata Grazie Handkerchief Aspetto un attimo Questi sono avanzati Ah I pezzi avanzati Sono avanzati E adesso A busta numero tre Raiden Per esempio Moana Pozzi La figura di Moana Pozzi Che viene trattata Nella serie tv Ragazzi Moana Pozzi Era una ragazza Sicuramente Una persona Sicuramente intelligente Però posso Sfatare un mito Come attrice Pornografica Era mediocre Era mediocre Non è che fosse Così Straordinaria A livello interpretativo Ecco Definiamola così Tant'è vero Che nel film Questa cosa Nella serie tv Viene Fatta Notare Infatti Rocco A un certo punto Le dice A te non piace Scopare E lei Tipo che dice Sì però Che rimanga Il nostro segreto Ma se capisce Se capisce Secondo me Dai film Però Attenzione Stiamo facendo Recensioni Di porno Beh Molto bella Molto E anche intelligente Il problema Il problema è che La gente All'epoca Era una ragazza Intelligente È morta Tra l'altro A 31 anni 32 anni Una ragazza 33-34 Era una ragazza Intelligente Una persona Intelligente Ma La gente La riteneva Intelligente In proporzione Al lavoro Che faceva Per la serie Ah non pensava Una monostar Potesse essere Anche intelligente E questo è il discorso Quindi se vogliamo Di base C'era un'ipocrisia Clamorosa Che uno dice Così bella Così Come dire Disinibita E pure intelligente Wow Come può essere Può essere Semplicemente Che all'epoca C'erano I pregiudizi Clamorosi Questo è Grazie Dark Side of the Moon Anche Rocco si prende Una persona Abbastanza intelligente Oh Bene Grazie Dark Side of the Moon La parola Non ti capisco Propongo una reaction Su Twitch Posso mimare Se volete Non so No Non si può fare Però Comunque Non ha Non ha colto Tanti aspetti Nell'ambito lavorativo Si è concentrato Soprattutto La serie TV Si concentra Soprattutto Sulla sua vita Privata Sul suo trascorso E sempre C'è questa tendenza A fare vedere Il rapporto Che lui ha Col sesso Come qualcosa Di Espressivo Di libertà D'espressione Di liberatorio Ma diciamoci la verità Era bravo Uno bravo A scopare E giustamente Poteva fare Questo mestiere Live Lego Ma sì Ma poteva fare Questo mestiere Cercano Un po' Ogni tanto Ho notato Che la serie TV Cerca a tutti i costi Di togliere Quella poesia Che ci deve essere dietro La liberazione Del sesso libero Non per forza È uno Che magari C'ha la fissa Di scopare E meno male Che ha fatto Il porno star Perché altrimenti Questo qua Diventava matto Se non faceva un lavoro Del genere Perché magari Non ci avrebbe avuto I soldi Per andare Con tante donne Perché poi lui stesso Dice Di essere andato Anche a pagamento Con tante escort Migliaia addirittura In un periodo Immaginate fare Sto lavoro E poi andare Con le escort Cioè proprio Non gli bastava mai Sì a lui non bastava Ma soprattutto Lui aveva Per un periodo Interrotto E purtroppo Sentiva La monotonia Della monogamia Con sua moglie Rosa Caracciolo Che tra l'altro Anche lei Che non si chiama Rosa Caracciolo Perché Est europeo Non mi ricordo di dove Ma è un nome D'arte Però E quindi Di nascosto A sua moglie Se non andava Con le escort E migliaia Lui diceva Migliaia di escort Poi dice L'ha confessato Sua moglie Sua moglie Ha perdonato Perché tanto Vabbè È abbastanza Oh mi hai tradito Però sai Un conto è Una moglie Che sa che tu fai Il porno star E che Lo fai per lavoro Ok Sì Vabbè Un altro conte Se tu non glielo dici Vai con tante escort E non glielo dici Perché Un conte Lei lo sa Un conte Lei non lo sa Ognuno C'ha poi La sua Come dire La sua Apertura mentale Nei confronti Di queste cose Quanti figli Avrà Ma In realtà Tecnicamente Ha Credo Due o tre figli Di cui uno Adesso fa l'atleta Eppure Promettente Una ventina D'anni Sì Ma Non Con Cioè Tutti i figli Magari Disseminati Quella Vabbè Quello non lo so Non credo Non credo Cioè Non lo so Onestamente Sto cercando Di Fare Questo Tetto Sì Mentre tu Parli di Sì Ha tre figli Se non sbaglio Uno non sta iniziando La stessa carriera Non lo so È fosco Non sono così informato So che uno Fa l'atleta E Può darsi Che un altro Voglia iniziare A fare la carriera Sua Ragazzi Io credo Che ci sia Una grossa Da un lato Ipocrisia Da parte Di genitori Che erano Pornostare E poi Diventano Improvvisamente Così chiusi Di mente Con i figli Non glielo vogliono Far fare Vedi Selene Che addirittura Nello scherzo Che le hanno fatta Scherzi a parte Sare incazzata Perché suo figlio Fumava Minchia E E dall'altro Oppure la mamma Di Vabbè la mamma Eva Enger Sua figlia Che è identica A lei La mamma La mamma Della figlia Di Eva Enger La mamma Della figlia Eva Enger Che si era incazzata Con la figlia Di Eva Enger Perché Perché appunto Nello scherzo Lei diceva Di fare la pornostar Perché Da un lato All'epoca Erano un po' Sfruttate Per certi versi Poi diventavano pornostar Sì però L'ambiente Non era proprio così Straordinario Dall'altro Di base C'è una voglia Di preservare I figli Le figlie In questo caso Per non farle fare Le stesse cose Che hanno fatto loro Però di base Sai come Ecco Il genitore Che fuma E dice al figlio Tu non fumare Perché ci sono passato Io già Sì però Non stai dando L'esempio giusto Non è un cattivo esempio Quello di essere stati Pornostar Assolutamente Però è un esempio È qualcosa Che tu hai fatto È che tua figlia O tuo figlio Potrebbe voler fare E tu a quel punto Non puoi dire di no L'hai fatto tu Però lo sappiamo Che da genitori Si ragiona in modo diverso Ecco per esempio Tutte queste cose Non vengono affrontate La serie tv Si ferma poi A un certo punto Ripeto Il fatto che sia romanzata In una certa maniera Non l'ho gradito tantissimo Tanto sto facendo io Il Il Camino Non mi veniva la parola In italiano ragazzi Il camino Invece Tex91 Sta costruendo L'ego della torre Eiffel Da diecimila pezzi Finito in una settimana Quasi Così tanto Ci si sta Diecimila pezzi Sti sono quaranta Da Animal Crossing Ad Animal Crossing È un attimo Sì 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 Lei dice Nello scherzo Ti ricordi Che sei passato da piccola Nel senso che comunque La società Ti vede di malocchio Se sei figlio Di una porno stare Magari l'infanzia Non è proprio Delle migliori Io vabbè ragazzi Avrei la mia Idea Su certe cose Allora Io Mi prenderete Per stronzo Però io Ho delle Non lo so Allora Va bene Per i porno stare Non lo so Forse fare figli Non è la cosa ideale Secondo me Cioè nel senso Se lo vuoi fare Lo vuoi fare per tutta la vita In un modo o nell'altro Rischi di mettere in difficoltà I tuoi figli Di metterli in difficoltà Non per forza Perché poi In realtà Per esempio I figli di Rocco Siffredi Si vantano Del loro padre I figli di Selenne Pure Ma il caspito ho fatto Però secondo me Così Ti levi un cazzo dal culo Se non ne fai proprio Però se proprio Le vuoi fare È giustamente Così come i figli Io penso Ma i figli Dei criminali Ma perché cazzo fate figli Siete ricattabili così Vi possono fare le vendette Trasversali Non ne fate No i figli dei criminali Infatti Secondo me Se non è I criminali Non dovrebbero avere una famiglia In tutti i film Di mafia Italo americano Siete Fanno la famiglia E giustamente poi I primi a essere ricattati Uccisi Sono i figli E non ne fate Al massimo Ammazzano a voi Non è la stessa cosa Non è la stessa cosa Dei pornattori Ci mancherebbe Però io penso sempre Ma che cazzo fate figli Se siete criminali Li fate Così non avete rischi Guardate Che carino Ho messo il camino Ah C'è sempre sto fumo Che mi lascia un po' incerto No mi piace Malamar L'hai ringraziato? Ah se non ci fossero Grazie mille Ma Nati Non stavo vedendo Grazie mille Malamar Grazie Malamar 40 Grazie per i tuoi otto mesi Però devono avere pure Le rete In testa Esatto Perché poi c'è pure Quest'altra mentalità Esatto Riassumendo i criminali Gastrazione chimica E la famiglia Giustamente Ci sta Vogliamo vedere Midna fare Lego Titanic Che c'è pure Sì Vabbè ragazzi C'è da sbizzarrirsi C'è di tutto C'è il nostro amico Vito Iuvara Oh non riesco a infilare Questo coso Che è qui su Twitch Fa video su Twitch Anche su YouTube Che ha tutta una stanza Con Delle mensole Tutte a giro Con Tutte costruzioni Di Lego Clamorose E noi E basta Ma forse Ha montato pure Quelli di Animal Crossing Dicono di sì Dicono di sì No non esiste Il Lego Normandy Purtroppo Ma se Midna sbaglia Qualcuno se ne accorgirà E in effetti Che sta Stai venendo tutto a posto Guarda che carino Finora Come sta andando Ragazzi Un applauso Finora un applauso Basta 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 Vediamo poi 49 Allora dobbiamo scegliere Le Quelle blu Mette quelle blu Ragazzi Quelle blu Certamente Intanto mi porto avanti Aprendo la busta Numero 4 No aspetto Nel senso La apro Scavicchio Ma non apro Va bene Va bene Messo le finestrelle In realtà è plastica riciclabile È plastica riciclabile? Fa proprio Puzza di sacchetto Della spesa Quello organico Sì Con le unghie lunghe Non è consigliabile Fare i Lego Niente Allora I pezzi avanzati Sono questi Togliamoli Molto bene Allora in realtà Se vogliamo Secondo me entra un po' d'aria Qua Non vorrei dire a Fuffi Ma il vetro Ma il vetro non c'è No Ma anche nell'altro Non c'era No il vetro C'era solo Nelle vetrine Bene Allora Qua che dobbiamo fare? Questo lungone E ci dobbiamo mettere Sì E poi però Secondo me ti dici Metterci l'altro lungone Infatti Ma perché aspettare Se sai che devi fare così Guarda Ma non è quello Perché mi fai le cose a caso? Vabbè Ho sbagliato il pezzo Ma Me lo stavo facendo io Così brava io Allora Questo Tieni Te lo sto passando Tieni Vai No non esistono i Lego Di Final Fantasy No Non mi pare Non mi pare Ragazzi Comunque non siamo esperti di Lego Magari esistono Non lo sappiamo Tieni Metti questo Sì infatti Io ripeto Non ne so niente Metti questo E ci metti Pure 2 4 6 Di questo Oh Via avanti signori Poi Poi diventa una specie di sushi Ah è tutta la Posso farlo io questo E tu parli Va bene Allora Però il fatto è questo Che loro non vedono Quello che fai tu Vabbè Un'importanza Così Posso alzare un po' qua No Nel senso no Così Almeno si vede un po' Anche quello che fai tu A posto Vabbè Ok quindi Potete fare domande a me Guardate il pacco di Raiden No Monterebbe anche Lego di Super Mario Non ne ho Lego di Super Mario Non ne ho nessuno Ho visto che ce n'è uno carino Che è Voglio la pianta piragna La pianta piragna È piaciuta un sacco Però non ne ho Lego di Super Mario Domande anche non solo sui Lego Non è perché stiamo montando No anzi Sui Lego siamo un po' preparati Nel senso questi sono i nostri primi Lego Non siamo così ferrati Sull'argomento Ma poi Voglio dire Trovate tutto su Google C'è il set di Fantozzi? Ma non è ufficiale No Non c'è il set di Fantozzi Ho visto che ci sono le figure di Fantozzi Ah e se non sbaglio È stato ricreato a mente libera Da un tizio E poi dovevano metterlo in commercio La figura C'è il Fantozzi Salta dalla finestra Per andare al lavoro Io l'avevo pure votato Vero Io avevo votato per un'altra cosa Ma non mi ricordo che cosa Avevo votato Però poi non si è fatto Mi pare era un italiano Che l'ha fatto Certo ovvio Come stai trovando Infinite Wealth Bellissimo Beh ma tanto ormai Allora sono al capitolo Undici Noi siamo al capitolo dieci Con loro Quindi ancora non l'ho finito Purtroppo l'ho dovuto mettere Mille volte da parte Per recensire altri giochi Per fare giocare altri giochi Sì Però Anche perché Lo sto giocando Con la massima calma Ma calma Non vuol dire Cioè facendo Tutte le secondarie Tutte Levellando Facendomi dungeon Tutti dungeon Al massimo Tutte le armi Proprio così Lo sto giocando Armi in ritagli? Allora io mi sto fidando di te Che lo stai facendo bene Sto detto Avete preso solo il NES O anche la Tari Allora il NES Solo il NES La Tari volevo prenderlo La Tari mi sa che lo prenderemo Era in sconto Quando siamo andati alla coin Qua a Catania C'erano dei ragazzi Della sezione Lego Che ci conoscevano Ho detto Raiden C'è la Tari in sconto E lo so Però All'epoca non mi andavo Ho detto Vabbè niente Era molto in sconto Era tipo il 50% 40% Era bello scontato Avete giocato Unicorn Overload? Non ancora Non ancora Però Ho chiesto a Però secondo me Questo è il tipo di gioco Mi sto facendo mandare La Collector Per il mio Per il tipo di gioco Che piace a me Sì perché a mia no Quindi io non Guarda che è il nostro Genere di gioco Sì sì Nel senso Quindi Assolutamente L'ho comprato Abbiamo comprato La Collector Nel senso L'ho richiesta A Annuccio A Uccio La richiesta nel senso Che ovviamente La compriamo E quindi Poi la giocheremo Con me va in mangarota In un mese Però ragazzi Prima devo giocare Altri giochi Sì ragazzi Mi sa che Appena c'è un mese Un po' più free Sì C'è un bel backlog Cioè dopo Dragon's Dogma 2 Per intenderci Raga Riesco anche a fare Magari Rise of the Ronin Allora Mi dedicherò A Unicorn Overlock Io sto giocando Rise of the Ronin E anche Un'altra cosa Basta E ovviamente Infinite All'altra cosa E ovviamente Infinite Infinite Vedendovi montare Mi chiedo Come ve la sareste Cavata a montare Ai tempi Il meccano Con dadi Vidi No Mai piaciuto il meccano E ingranaggi Con le cini Ma no Non era cosa mia Quando mi regalavano Il meccano Al compleanno Pensavo Non era cosa mia Vorrei chiedere Quanto Dragon's Dogma Può essere simile A un The Witcher 3 Ma anche volendo Per adesso Che a te dobbiamo dire Non lo so Non molto simile Ah diciamo Che in generale Accostare prodotti Giapponesi A prodotti occidentali Hanno proprio Un'impronta Diversa Ci sono molte Più somiglianze Tra Final Fantasy 7 Rebirth Like a Dragon Infinite Wealth Che tra Qualsiasi altro titolo Occidentale No Non te lo posso Accostare A un The Witcher Su Temu Ci sta la Normandy Vabbè no Ragazzi cose non ufficiali Non me ne dovete dare Temu 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 che non faccia per noi Sapeste Quante volte Temu ci ha contattato Ah hai fatto il tetto Ha fatto il tetto Però però adesso Non si deve mettere Non c'è nella Nelle indicazioni Da mettere il tetto Allora Mi dà una domandina Hai mai pensato Di portare Qualche format In solitaria Sul canale YouTube Intendo Quella è Ormai Le tue seratine Lo chiedete sempre Io gliel'ho sempre detto Falla qualcosa tu Perché se no Quando mi fermo io Il canale si ferma Allora ci sono dei video Che faccio io Nel senso che Scrivo io Preparo io Però poi voglio anche Raiden Tipo tutte le top Le scrivo io Le faccio io Le monto io Game fails Mira sono quelle Anche tante recensioni Le fai anche da solo Tante recensioni Le scrivo io Le faccio io Però Cioè in cui ci devo essere Solo io in video Non ne sento la necessità Se io sento la necessità Di fare Di trattare un argomento Da sola Che magari mi riguarda Quando è stato di Starfield Quando è stato di Sì Oppure del trailer di Avowed Lo faccio Semplicemente non ho avuto La necessità di farlo Ma io sempre Concepisco Player Insider Cioè quando faccio Lo scrivo un video Lo scrivo per Player Inside Di norma Insider è nato con me Però in realtà Se lei volesse fare Una puntata Insider Sarebbe liberissima Infatti Certe volte Mi avete scritto In passato Però Raider Non glieli fai fare Ma per me potrebbe No Ma come mi fai fare Anzi Lui anzi In certi giorni Mi toglierebbe un po' Di ingombro Perché io certi giorni Magari Magari me la sento di meno Di registrare Nell'ultimo anno Con il fatto che faccio Più palestra Cose Certe volte sono un po' Sfatto Un po' più stanco Proprio in video E quindi Preferirei che magari Li facesse da sola No Però No E allora ogni volta Deve essere super performante Per questo pochino Comunque io da sola Sono stata velocissima A fare questa casa Questa parte di casa qua Sì Eh me la sono Guardate Porterete Stellar Blade Sul canale Io l'ho preordinato Mi ispira Mi incuriosisce parecchio Sicuramente tratteremo Stellar Blade Roberto In un modo o nell'altro Perché sicuramente È un titolo Che ha attirato l'attenzione Per variati motivi E In generale Sembra Sembra un bel titolo Sembra interessante Quindi Interessante Sì Non è il gioco Che aspetto Di più Quest'anno Diciamo Però è in top Per quanto mi riguarda Sì Diciamo che Questi non hanno dimostrato Ancora niente No Quindi vedremo Falle tutte Ti vogliamo Grazie da Necronos Come mai non avete mai Recensito uno Yakuza Ragazzi ma Perché voglio fare Direttamente un videotributo Per tutti gli Yakuza Lo voglio fare fatto bene Poi tra l'altro Non sempre li abbiamo giocati Al day one All'uscita A volte li abbiamo giocati Anche dopo mesi Io per esempio Dico la verità Cioè io Ho iniziato Yakuza Con il quarto Quattro Cioè io ho iniziato Yakuza con Yakuza Quattro Io dal primo E poi sono andata A ritroso Però prima È iniziato Yakuza Con il quattro Vabbè ma perché Prima stavamo in case Separate La copia Me la compravo io E ci giocavo io Quindi poi passava il momento E tu nel frattempo Giocavi ad altro Sì Invece Poi quando Non mi ricordo Tu hai deciso A un certo punto Di giocarlo come backlog E ha funzionato la cosa Ti è piaciuto E sono stato contenuto Sì nel senso Io vedevo lui Che giocava all'1 e al 2 Su PS2 E diceva Eh interessante Lui mi diceva Qua repere Poi Quando ho giocato al quarto Non so perché Ho iniziato a giocare al quarto Sì Mi sono innamorata Il 5 L'abbiamo giocato insieme In giapponese Dio Ma vederlo è un conto Giocarlo è tutta un'altra cosa Il 5 insieme in giapponese Il 5 l'abbiamo giocato insieme In giapponese Con la guida Perché non capendo il giapponese Sì Fino a un certo punto Poi la guida Perché poi si fermava Cos'è Io sono contro queste cose Perché secondo me Si va a perdere il valore dell'Italia Che cosa stai parlando Ma infatti sì Stavo dicendo Perché sono contro queste cose Che si va a perdere il valore dell'Italia Una cultura che non è la nostra Si perdono le tradizioni italiane Vabbè È vero È vero È come la zuppa di ceci La festa dei santi Sono d'accordo Sono d'accordo L'inuscolo È vero Si perdono sempre Secondo me Ha ragionissimo Allora Pid Hai visto qualche volta C'è posta per te Quest'anno Ah quando eravamo ammalati a letto Ci siamo visti tutte le puntate Quando eravamo ammalati Chiude la busta Allora io non avevo voglia Di vedere niente Non volevo vedere film Non volevo vedere serie Non volevo vedere niente Ho detto Voglio vedere gente Che chiude la busta Perciò in on demand Mi sono vista Certo on demand Ma non è che io ascolto la storia Io vado direttamente a quando Arriva quello in studio E sono stata fortunata Perché un sacco hanno chiuso la busta Si si siamo stronzi ragazzi Meraviglioso ragazzi Ma perché Quando chiude la busta Quando chiude la busta è bello Perché proprio dice Ma che bello Sì esatto Tu dici Ah così ti impani No Raiden ma che stai a fare Deve essere allineato Il tetto deve essere allineato Ora ci arriviamo Ora ci arriviamo A questo A questo qua Il tetto deve Cioè il tetto lo devi fare così Il tetto sul tetto Ma no Allora Quel tetto No che stai a fare Qui si apre pure così E ti trasformi No questo non lo so Però aspetta Allora veniamo un attimo Allora il tetto Il tetto E come va ad essere Il tetto allineato Io infatti dico Tramezzino Al posto del sandwich Per non perdere Le tradizioni italiane È giusto Allora diciamo Stracittadina Anziché derby Diciamo Calcio d'angolo Anziché corner Ragazzi Diciamo queste cose È giusto Ma era molto a proposito No questa Perché stavamo parlando Lego Anziché Lego Ragazzi Diciamo Come Proprio Lego È una parola italiana Costruzioni Martoncini colorati Di plastica Ecco Anzi Ti sei squiossido Di carbonio Ecco Forse qua ho fatto La cazzata No anche perché Non ha senso Vedere tutta la storia Che racconta Maria Io la salto sempre Perché tanto poi Quando entrano quelli in studio Chiedono Che cosa ti ha detto E lei ripete Tutta la storia Per far laturare Siccome non ho tutto Tutto il tempo Nella mia vita Di sicuro Non mi guardo Mezz'ora di puntata Ma che stiamo scherzando Guardo dieci minuti Anzi Quando stanno un po' troppo A parlare Schippo Fatto Ah e poi ci piacciono I vecchi Che trovano Ci piacciono i vecchi Va bene Ci piacciono i vecchi Che trovano i loro amori Da giovani Allora questi sono I pezzi avanzati E sono convinti Di trovarsi davanti Una persona giovane Ma è cambiato Poi si trovano Le persone vecchie Dicono Ma è vecchio Grazie Cioè 80 anni Che vuoi È cambiato Che schifo Non mi piace Innanzitutto questa È la casa di Fuffi Guardate che carina Midna però Ah busta 5 Sì busta 5 Molto meno Non è ancora finita No Innanzitutto però Nel frattempo Mettiamo Vedete c'è il cestino Mettiamo il cestino In mano a Cervina Anziani Si dice anziani Gli anziani sono una cosa Questi sono proprio vecchi Gli anziani sono un'altra cosa Ragazzi Gli sono vecchi Ragazzi 92 anni Voi me la definite anziana 92 anni È morta che cammina Fallo senza istruzioni Ma smettila Ma no senza istruzioni Ma perché Oh raga Non l'entra in mano Non l'entra in mano Eh Avete visto Vite al limite? Sì Allora Non lo vediamo più Per far venire la depressione Ho smesso di vedermi Vite al limite Perché mi fa deprimere In un modo incredibile Fa venire la depressione Perché è molto psicologico Cioè si indaga anche molto Sui problemi delle persone Io non voglio Non mi interessa Cioè non voglio Mi bastano i miei ragazzi No mi sento male Quindi No Scusate Basta adesso Monto io un po' Voglio montare un po' Io adesso È divertentissimo Vabbè Ora monti tu Aspetta Ora ti ci faccio giocare Un attimo Non resta for the week Che te lo prenderete In early O quando uscirà in versione completa No vabbè già early Vabbè early Già lo proviamo Più che altro perché Ragazzi Certe cose sono Da fare per lavoro Nel senso Io gli early access Non mi fanno impazzire Ma è impossibile pensare Che io non lo provi Con voi Per voi Ma anche per me In realtà Sul canale Perché è uno dei titoli Che aspetto di più Quindi per quel caso Si fa un'eccezione Come è stato Per Bardosgate Ma mi fanno impazzire Ste cose Sto capendo più che altro Aspetta Adesso gli interni Gli interni Li fa Midna Guardate ragazzi Il poster Di Kei Kei No va bene No va bene Il poster Ma perché Fuffi ha il poster Di Kei Kei a casa Ma no Ragazzi Fuffi Canalei Cane lui Vero Sono tutte e due Dei cani Canalei Esatto Cane lui No raga Non ce la posso fare Io li sto montando Il letto Mi ha 92 anni Mia nonna Saliva ogni mattina Sulla sedia traballante Per accendere Lo scaldabagno Sei più morto Tu a 40 anni Di mia nonna Con 104 Con amore Però Ma che steve Poi morto perché Ma Cioè Potevi Potevi esaltare La nonna Sta facendo il letto Senza dire niente a me No Con amore Io ti ballo nella panza Che è una meraviglia Lo vuoi fare tu O posso farlo io Io con la minchia Facendo lo scaldabagno Così Eh No Brava la nonna Che rischiava quindi L'ossa del capocollo Ogni giorno No sai Lo devi fare tu Per forza Ma scusa Veramente voi Facevate salire La nonna di 92 anni Sulla sedia Per lo scaldabagno Ma che irresponsabili siete Ma veramente Raiden Lo devi fare tu Perché ho le unghie lunghe Non riesco a farlo I pezzi troppo piccoli Non riesco a Ma che vuol dire Aiutate Aiutate La aiutavate Ma la scala Esatto Ma a parte la scala Non glielo fate fare Può essere Può essere ancora in forma Arzilla Quanto vuoi Ma anche uno di vent'anni Si può rompere l'osso del collo Facendo sta cazzata Scusami Io non lo racconterei in giro Ho letto nei giorni scorsi Che un possibile remake Di Final Fantasy 9 Sarà più modesto rispetto a Final Fantasy 7 Remake Saga E più conservativo Voi come la vedete questa cosa La preferite Semmai Ci sarà più modesto rispetto alla saga Final Fantasy 7 Remake Ragazzi Allora A Square Enix Non neanche gli conviene fare un remake di Final Fantasy 9 Impegnativo Come quello di Final Fantasy 7 Facessero un remake più modesto E siamo tutti contenti Sì infatti Perché Sono d'accordo Si può fare Si può fare anche uno a uno Con un unico episodio Sono d'accordo Sono contento Sì sì O magari anche in due episodi Però tre è veramente troppo Cioè ti impegni vent'anni su un progetto 15 anni No No io direi Massimo due Massimo due parti E questo è il lettino Questo è il lettino di Fuffi Aspetta Non è finito in realtà Aspetta Che lei ce l'ha al baldacchino Ce l'ha al baldacchino Mi dai la scatola Io devo vedere Dove è messo ufficialmente Sì La scatola la devo tenere io Ma un nuovo Castelvania per PS5 È un remake? Che ne pensate? Eh Sì Eh chiedete a Konami Ce ne sono talmente tanti i Metroidvania Che non si sente la mancanza di un Castelvania Soprattutto perché Konami appunto Ora come ora Allora Intanto il letto è messo sotto La finestra Ops Sarà questo? Sarà questo Sarà Ferguson Mettiamolo qua Ah ma guardate No allora guardate Fuffi Va al letto Eh E guarda la foto di KK Ogni sera E questa è una cosa creepy Però va bene Ragazzi Io Non aggiungo Altro E infatti Non deve aggiungere Stai facendo? Questo cosino Questo spacchino Cosa sarebbe questo coso? Che cos'è questa cosa bellissima? Il telefono Voglielo vedere Perché il telefono così? No lo devi mettere un po' storto perché ti va appoggiato Non lo mettere dritto se no sembra Ragazzi Ragazzi guardate il telefonino Non è ancora da applicare Non è ancora da applicare Dai metti a fuoco Scemo Non è ancora da applicare Mitterina Metti a fuoco Metti a fuoco Non metti a fuoco Vabbè L'avete visto no? Vabbè ragazzi Non lo metto a fuoco Aspetta non è da applicare Ecco ora si Ci sono tante IP finite nel dimenticatoio Ragazzi fare dei giochi costa soldi Beh per alcune ci sta Che non si faccia Allora se dovessimo riprendere tutte le IP qua Ragazzi Ci sta anche Cosa hai fatto? Ci sono nuove IP Ecco Guardate L'orologio Che cosa vi ha fatto? Che vi ha fatto? Poi mi spiega questa telecamera Perché non mette a fuoco È strano Ah con la mano Tipo le mega parties Sto capendo? Ah ok Sì Allora vediamo dove lo mette ufficialmente Ragazzi non voglio avere fantasia Voglio fare le cose uffici Guardate il ma Ah sì Che cosa? No niente È giusto qua Allora lo mettiamo qua Accanto al letto Tadam 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 Carino È una bella piantona Secondo me è un certo ed è morto? No Può essere Ma è morto? Cioè non è che dobbiamo escludere qualunque cosa Le cose finiscono anche Che cosa è sta cosa? Cosa hai fatto? Una pianta Ma non mi piace così È così È finisce così? È così Questo Sapete cosa? Io lo sfalserei Perché così non mi convince E la piantina va messa Stiamo andando turbo La piantina va messa all'ingresso Qua Tipo all'angolo Porca Io mi auguro di sì Perché ha un finale perfetto Il quarto Sì Sì però al finale Se ti ricordi Tanti dicono Eh però Però potrebbe esserci un'altra Persona Un altro personaggio Oh ma che carino Mamma mia ragazzi Io non lo so Ragazzi non sono mica fiaschi Che si abboffano i videogiochi Ci si stappa Tieni Metti la cucina Il fornino Ci starebbe un remake Dei primi tre capitoli Ma di che cosa? Di Uncharted? Ma non ce n'è così tanto Non credo proprio Non ce n'è così tanto Ma cosa? Ma tu fai ste cose Ragazzi guardate Raiden fa le cose Non le fa vedere Allora E' il fornello E dentro il forno C'è una crostata Signori Si può anche aprire Dentro il forno C'è la crostata Ah secondo me Ora impazzisce Guarda Rubinettino Oh mio Dio Rubinettino Madonna Oh mio Dio Ragazzi No vabbè Rubinettino No vabbè Raga Raga Ragazzi La cucina La cucina Che vi ha fatto la cucina? La cucina Il WC Non ci vanno È un cane I bisogni li fa in giardino Per terra così I bisogni li fa per terra È davvero cute Vero ragazzi È davvero super cute È che t'ha fatto pure questo tavolino No sta facendo un tavolino Oh mio Dio E il tavolino dove va? Eccolo qua Ci sono pure pezzi avanzati Ma uno ce li può anche Allora il tavolino Con i biscottini Le tazzine Lo mettiamo qua Sono in berserk Ok Questo Dove caspita? Questo Aspettate un attimo Ah qua è messo proprio all'impizzo Non so Le cose tonde Non le so me Oh E questo non ho capito Ah un libro Un libro gigante Ovviamente il libro E due sede Due posti Si mettono fino al tavolino Ok E praticamente È finito Questi sono i pezzi avanzati E li mandiamo qua Ah Oh ma non entra Aspetta vediamo Vuoi metterlo qua? Eh ragazzi il libro Fatto Il libro che si apre Che si chiude Mettici i posti Allora il libro qua Te lo fa vedere L'ha messo sul letto No ma tu l'hai messo Troppo appiccicato Troppo appiccicato Allora ci devi mettere pure i sedili Ah Beh ma qua È così eh No vedi È messo proprio sul coso In pizzo Però non ci sta Non può starci perché No ma anche nel disegno Anche nel Qua è messo in pizzo Guarda Guarda Vedi Allora vediamo Sono due Ok Quindi così Me l'ha messo Ma non entra Ma senti ma Sti cazzi Lo mettiamo Là Lo mettiamo qua Perché ce ne è rotta No E poi i posti Ne mettiamo Uno qua Fuffi Hai la casa un po' troppo piena Sti abusiva Uno qua E uno Ma il libro è proprio appoggiato sul letto Sì È tipo il diario segreto Di Fuffi In cui Fuffi scrive Pesa 40 kg Che è innamorata Di Kei Kei Esce da aprire Il numero 6 Lo possiamo mettere aperto Oppure lo possiamo mettere Chiuso Così Ragazzi Troppo carino Ben Numero 6 Numero 6 però ho perso il filo Vuoi montare tu 6? Sì Io ho montato la fase 5 Sì sì Monto io Monto io Monto io Monto io Ma quante cose Minuscole Ok Allora Adesso torniamo di nuovo A vedere la cosa davanti E nel frattempo Possiamo volare di altro Ragazzi Allora Vediamo Vediamo Dai forza Secondo voi ci sarà un Red Dead 3 Hai già risposto a questa domanda? Secondo me Potrebbe esserci Cristo Scusate Scusate Mi è scappato Potrebbe esserci In effetti Non lo escluderei ragazzi Non lo escluderei Però posso un attimo Faccio un caffè in alitino? Sì vai vai Che dici Vuoi mezzo? Sì 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 Io accetto sempre Non rifiuto Io Intanto mi scappa Che devo fare Ah no Qua Poi tra l'altro Appunto Si possono Attaccare Tra loro Io c'è Poi io Questa casetta L'attaccherò Accanto alle altre Che ho fatto ieri Ovviamente E poi uno Da questo lato Sai però Il fatto che il libro Si è appoggiato Mi perplime Lo metto per ultimo Lo lascio Perché Mi uccide il fatto Che sia appoggiato Ah ovviamente Il microfono è acceso Raiden L'ha staccato? Va bene L'ha staccato Allora niente Non lo sentite Peccato Io Mi sa che è spento Sì Io Io praticamente Ho mangiato Un po' di uovo di Pasqua Non avrei dovuto Ragazzi Non avrei dovuto Ah ci sono i fiorellini Gialli Ma che chiuti Che carini Eh se l'ha staccato Ragazzi Per privacy Perché non vuole Farsi sentire da voi Triggera un po' sta cosa Sono lego E si deve attaccare tutto Ma che è sta cosa Che si appoggia Eh infatti Cioè Anche perché io Li voglio tenere fermi E il fatto che qualcosa Possa volare via Mi mette un'ansia Che non ve lo sto a dire Io sono arrivata al punto Di dovermelo comprare Da sola Non voglio essere adulta Aspetta Comprare da sola cosa Dovermelo comprare Da sola Di che cosa stavamo parlando Perché io perdo il filo In un attimo Proprio In questione di un secondo Ah l'uovo Ma certo sarà weird Ma io me lo compro da sola Ormai da 10 15 20 anni Da quando è che me lo compro da sola Ragazzi Da quando sono Maggiorenne Da sempre Ma A me non mi Non mi dà fastidio Con dovermi comprare L'uovo Ovviamente preferirei riceverlo Ma chi me lo deve regalare Però a Raiden Lo compro sempre io Potrebbe comprarmelo lui E' andata così ragazzi Ormai sono io Quella che compra le uova Per tutti E per tutti Si intende io E Raiden Prova a usare Il pattafix Per attaccare Le cose volanti Eh Ma non si rovinano Non si rovinano Le cose volanti Col pattafix Non rovina Si può attaccare Anche i muri Forse No ma più che altro Il problema è poi Trasferirli Cioè perché io adesso Lo sto montando qua Però poi lo devo mettere di là Ieri Ho fatto tutto il villaggetto E abbiamo fatto ieri La bottega Poi per portare Tutto cose di là Mi si è staccato Di tutto e di più E quindi Sì C'è sto problema Ma che sono carini Sti fiori ragazzi Che sono carini Sono delicatini Eh ma i bambini Allora come fanno A giocarci Perché in teoria Loro li propongono Anche come giocattoli Per bambini Soprattutto Sì però Secondo me Realmente Le tamme No Raiden Ne ho mangiato di troppo Stavolta rifiuto Sono gli ultimi pezzi Di mangiare Mangiali tutti tu Ma io non posso Ho mangiato anche Dei mochi E per i bimbi grandi Anche Basta Basta Solo un goccino Avete visto la demo Di Potato Sack Racing Simulator 2024 Un gioco un po' cringe No Non ho visto No questo non è sfuggito Ho messo i fiorelli Fiorellini Ragazzi ma coi fiorellini Non è già tutto più carino Guardate Non è già tutto più carino Quei fiorellini Sì 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 Senti ma Ne vuoi ancora? No Allora mi sono scusato La sigla E vanno a prendere Allora Mi sa che non manca molto Ragazzi Abbiate un po' di pazienza Non manca molto Allora Dobbiamo fare la cassetta Della posta Dalle vostre parti Fanno il festival Dell'Oriente Qua Torino Ci vado questo sabato Sai che Da New York Che mi pare Che un anno L'hanno fatto Ora non lo so Se lo fanno ogni anno Io non sono molto informato Su cosa succede Nella mia città Dico la verità Ma se non sbaglio L'hanno fatto Qualche volta Vero Raiden? Ci siamo andati insieme? Sì Cioè era una cosa Però sul Giappone Proprio Avevano fatto Pure la preparazione Del match Tutte queste cose Avevano fatto Proprio varie cose Non mi ricordo Dove fosse Può essere Alle ciminiere Alle ciminiere Sì Allora ho fatto La cassetta Della posta E c'è la letterina La letterina La mettiamo così La letterina Perché in teoria È il postino Ora mi dovete dire Interrogazione Come si chiama Che non è Non c'è In Animal Crossing New Horizons C'era nei presenti Animal Crossing Come si chiama Il postino Di Animal Crossing Tu non rispondene Mettiamo la lettera qua Bravo Sarkon Tino Bravo Tony Hawk Bravo Kamuska Tenaga Ah lo sapevate Tino Il mitico Tino Che però Non hanno messo In New Horizons Perché non c'è più La vostra normale Non ci sono più neanche Penny e Polly Che tra l'altro C'era una tresca Tra Tra Penny E tra Una delle due E Tino Quella carina No post Tino Post Tino Esatto Post Ok adesso prendiamo La Zolla grande Perché qua Quindi la casa Praticamente è finita La casa è finita Adesso dobbiamo fare Il giardino Che c'è attorno alla casa Bene No Sara È quella che porta I tappeti Sara era Il cammello Sì il cammello Che porta I tappeti Che in origine È maschio Però Siccome ha le ciglia lunghe In occidente L'hanno fatta Temmina Per questo c'è anche Coso Come si chiama Chi Quello che Balla Pavao Pavao No quello è maschio No c'è Griffa Che Griffa era maschio Griffa Griffa era maschio No Pavao l'hanno lasciato maschio Pavao Griffa era maschio Però l'hanno fatta femmina Perché è truccato Che poi Pavao Era È in realtà La prima persona singolare Del passato remoto Di pagare Di pagare Sì Pavao Ah guardate C'è il Lo scavo per fare C'è il punto dove si scava E si trovano i fossili Qua lo mette Di qua E noi lo mettiamo pure Di qua Chi siamo noi Per farlo diverso Rispetto al progetto Originale Manca una tegola Raga Le cose di Raiden Le cose di Raiden Ma è vero Che ma Ah Ma Minchia Vero Eh ma mica Non c'era scritto Di non metterla Raiden Vabbè ma è una stronzata Ma è strano però Grazie Zè Che mi sia spuglito così Però è strano Vabbè dai che ci vuole Una cazzata E uno Due Grazie Zè E uno due Ma per esempio Hanno aggiunto anche Nuovi personaggi Di Animal Crossing E ce n'è uno Che si chiama Sasha Fatto Che sembra proprio Una femminuccia Ma in realtà è un maschietto Vabbè L'importanza Allora È super carino Qui c'è il fossile Guardate Cute Fossilino E lo Ma è il fossile così piccolo Ragazzi Perché il fossile così piccolo C'è la buca gigantesca E il fossile minuscolo Sembra È grande quanto La stellina Quella è Eh vabbè E lo mettiamo qua Appoggiato a terra Però non ci lo potevamo mettere Quello è il laghetto Potevano fare il museo di Blatero Tenaga ha fatto qualcosa Tenaga Attenzione Ragazzi Ragazzini 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 Faccio vedere Che ha fatto Tenaga Eh come si fa? Download Sali Sali Non so se è il computer Ragazzi Infatti Eh vabbè Casomai erano le mie analisi Guardate che carini Ah Grazie Tenaga Ma è bellissimo Lo disegnavo Mentre parlavate Di Roccosifredi Perfetto Infatti Mi hai fatto con un'espressione Un po' Allusiva Stupendo Stupendo Grazie Vedi che meraviglia Allora No i ceppi Mi dai i blonceppi Un mezzo tronco Un mezzo tronco E un geppo Che è Ok Ah e li devo mettere Aspetta che mi sono già confusa Uno tipo qua Uno tipo qua Io sti così toni così non li so mettere E uno proprio davanti Qua Aspetta Ho già fatto Ah ok Quindi questo lo metto da parte Perché non Non c'è la tomba di Oreste Nell'ego Perché Oreste è vivo Secondo me c'è Ed è nel villaggio di Liot C'è la tomba Sì No Non c'è la tomba Non so che c'è Devi fare l'albero Questo è l'albero Sì Stai facendo l'albero? Sì Bravo Rainer Eh Esatto Vi vanno Però secondo me la tombina Non c'è nessuna tomba Perché è vivo Oh mio Dio ragazzi Vi ricordate ieri Che nel Nell'albero Devi alimentare il meme Nell'albero Perché Nell'albero ieri Che cosa c'era nascosto dentro l'albero Vediamo chi è che ha seguito La live di ieri Sì Vediamo che si Il ramo Bravi 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 Il ramo Oggi C'è qualcos'altro Che cade dagli alberi Quando li scuotete Ovvero Cosa cade dagli alberi Quando li scuotete Sembra che parlo Dei bambini Bimbi Bimbi Non ho visto monete Da nessuno Quindi ho spoilerato Ma questo che spacchio di pezzo è Faccio io Non sai giocare Non ho capito Eh Questo qua Non ce n'è più Questo è come non ce n'è più Comunque oggi sono un po' strano Eh Ecco qua Ok Guardate La moneta Lo fai vedere Allora qui c'è la moneta Sì qui c'è il Come vedete Una moneta La struttura dell'albero Moneta E stiamo mettendo Una monetina Ce n'è un'altra Mettine un'altra Qua dentro No Noi mettiamo una Perché è simbolica Che si trova dentro l'albero Grazie Resci Grazie mille E poi si chiude l'albero Quindi è così che gliele mettono le monete negli arvoli Però io le metterei in alta Che secondo me è di riserva Ma io le metterei dentro Vabbè Mettici C'è palesemente C'è palesemente un errore Guardate ma che hai combinato L'albero è storto Sì esatto L'avevano già visto loro Prima di te Vabbè Questo Avete un occhio ragazzi Assurdo Fareste andare la gente Cioè ieri Non trovavo un pezzo E uno in chat Ha identificato precisamente Dov'era No no Da là Io poi ho rivisto la live Oh ma non si vedeva E tu figurai Cioè era messo tipo i pezzi nascosti Come ha fatto a vederlo Ieri Invece Sono molto Hanno molto spirito di osservazione Ieri In Lega Dragon Infinite Welt E stavo facendo un po' di loot Evidentemente mi sarò perso una cosa Perché un in chat mi ha detto Secondo me E le gamma globuline basse nel sangue Sono proprio arrivano a Identificare pure queste cose Sì Si vede che sono in Niente Ha preso l'analisi Ed è preoccupato Perché ha le gamma globuline basse O alte Non lo so Qualcosa Hai le albumine basse Albumine basse Sto morendo ragazzi Allora E mettiamo Uno Gli agganci per le mele Per le mele Per le mele Due Per le mele Ma le mele dove sono Perché le mele si agganciano invece Ah perché sono così Qua così L'errore sul discorso che dentro C'è la moneta Vediamo chi capisce Perché secondo me Non può esserci la moneta Perché dagli alberi Ma stai zitto Le ho chiesto a loro Vedete Che c'è Comunque sono le meline Ne mettiamo qua Perché se ecco Le ciliegie Non può esserci Non sono ciliegie Sono mele Però sì Ci siamo capiti Esatto C'è la frutta Beh Ma tu prima scuoti E cascano le mele Poi dopo di che le scuoti Casca la moneta No Non può essere Solo negli alberi normali Vabbè sti cazzi Avranno detto loro stessi Quelli di Nintendo Avranno detto pure Vabbè sti cazzi Fate la moneta Però sappiate Che qua dentro c'è una moneta Va bene Aspetta che si deve mettere questo E questa cosa mi stranisce No questa è una cosa orribile Ragazzi stiamo mettendo Una canna fumaria sull'albero Cos'è sto schifo Cioè guardate Cosa stiamo mettendo Una croccone Cos'è sto coso Perché Perché cosa vuole Chissà che cosa pretende Da noi questa situazione Fammi capire come Per cosa vuole fare Perché sta cosa è strana Questa cosa turba un attimo La nostra Ma non c'è Non c'è niente Ah forse per il Per tenere Forse ho capito Forse per tenere Il regalo Il regalo Lo sapete che c'è il palloncino Siccome non può volare in cielo Quindi lo Si mette sull'albero Come non può volare in cielo Non sai che non Cioè non puoi Non puoi volare Veramente Oh Oh ci è rimasto male Raiden Poi Qua invece che si deve mettere Ah ci sono i regali Dentro il palloncino Sì Fai vedere il regalo Perché poi sarà chiuso Fai vedere il regalo Un attimo perché Non so cosa siano Queste cose Però Ti danno un semaforo Praticamente dentro il palloncino C'è un pennello E anche un semaforo giallo E anche questo Cosa qua Non so cosa sia Metti tutto dentro Sono nascosti dentro il regalo Metti tutto dentro Ma questa cosa Non la sto capendo Cioè potevi metterle Più a cazzo di così Non si poteva Eh E si deve chiudere Vabbè E questo Poi dopodiché Sembrano barattoli di colore Sì ma Ste cose non ci sono nel gioco Questa non si è capita ragazzi Non lo so Non vi fate domani Sappiate che dentro il regalo No no ma si può fare direttamente così Guarda Eh vabbè E questa è la Fai vedere come si L'hai fatto vedere Un secondo Si può aprire così il regalo Zoom E c'è il regalo dentro Però aspetta Vi facciamo il fiocco a sto regalo Bisogna fare il fiocco Guardate Fate il fiocco E quello che non lo vedrà mai nessuno Ma noi sappiamo che c'è Liot queste sono le cose più belle Beh oddio Le cose che voi sapete che ci sono Eh Che sono dei segreti E li dovete scoprire Nei videogiochi Mi piacciono tantissimo Ed è quello che mi manca In Starfield La cosa che hanno fatto Le cose procedurali Non a mano E non ci hanno messo i segretini Messi a mano Ah Mi uccide l'anima Allora guardate Guardate Il pacchetto Guardate Lo aprite E boom E boom Anche perché di norma Bethesda è una magister In queste cose Ah e ci metti il palloncino Di sopra Sì Questo palloncino è bruttissimo Posso dirlo Beh ma Sì Vabbè comunque è un palloncino E il palloncino si mette Giustamente Il regalo con tutte cose Si mette là sopra Non so se mi fa impazzire Ragazzi vi piace questa cosa? Non lo so se mi fa impazzire I fiori I fiori li hai messi? No I fiori? No Questi qua li hai messi? Dove vanno? I fiori Li ho messi qua nella casa Se sono avanzati Mettiamoli pure qua Non lo so Non lo so vi piace il regalo così Faccio vedere anche qua così L'effetto è questo E da qualche parte si deve Si deve fare Questi credo siano pezzi avanzati Così Questo serve da collegamento no? Sì Lo terrei fuori questo Questi invece pezzi avanzati Tra cui una stellina anche No perché Si può fare Perché è avanzato questo qua così? Perché? Questi non è che avanzano Questi servono poi Per collegare Li posso togliere Perché sembra che manchi qualcosa Per collegarli Ah ma qui ci sono ancora Infatti Puoi mettere anche Un'interfunzione Questo lo metterei qua Questo fuori Allora abbiamo finito Questo va fuori? Eh? Sì sì Allora questo io lo metterei qua E questo lo aziccherei No 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 Non mi piace Vi faccio vedere Vi faccio vedere Un attimino Qua dove lo metto? Lo stumillo però Lo stumillo però Ok Ok Qui No c'è qualcosa che non mi quadra Proprio Eh? Sì 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 Allora togliamo qui il fiore Allora togliamo qui il fiore Togliamo qui il fiore Che E lo mettiamo questo qua Niente è avanzato questo perché non è il suo vaso Ok Ma è infilato? È infilato molto a forza Il fiore si può mettere anche qua Cosa? Non vedevo se no Ok Come ci sta messo? Ma che cazzo Porco Che volevi fare? Volevo metterlo qua Dove? Dove sentiamo? Dove è messo nel disegno Cioè dove? Cioè qua Dove? Però c'è sto coso di lato Ma no ma gli accrocchi Vedi gli accrocchi Volevi metterlo così di lato? Eh? È messo qua nel disegno Ma non può essere messo qua Guarda È una struncè Vai a ostruire No secondo me No allora facciamo un'altra Guarda 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 Sembra in davanti No 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 qua Di qua Che è più o meno quello che avevo fatto io però L'avevo messo all'altro lato Potevi spostarlo Ma cosa cazzo? Ci siamo? Ma l'anno L'ammodernamento Ma questo qua non entra Cioè qua non si può mettere in questo tipo di cose Stato fiero Questi non ci entrano Ah sì 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 È così però Così Ma perché? È perché due non entrano Così è brutto Lo so Va bene va bene Ci può stare È carino invece dai Direi che è carina questa casa E lei e loro dove sono? Eccole Allora una La mettiamo a mare Però non mi piace qua sto coso così Era bello Ma lei si mette qua Vedi? Ah ok giusto Si mette qua E lei invece Ma sto coso azzurro che è? Acqua Ah acqua Infatti Scusi il tronco un po' in mezzo all'acqua no Ma era Ho seguito il disegno Ma tu il disegno non lo devi seguire Se ti buttano alla finestra Tu butti alla finestra No Si Oh e lei tipo qua Che sta Cazzando cose Sta facendo cazzare No girata Ma il libro Lo può tenere in mano Si ma sta cosa Tenere in mano Tiene in mano Il libro in mano fa schifo Il cestino Ah il cestino Il cestino Il cestino Oh e questo è finito Il cestino lo mettiamo qua Abbiamo messo il cestino Il libro lo mettiamo nel cestino No Il libro lo mettiamo dentro Niente Questo libro non c'ha fantasia C'è Servina La possiamo mettere seduta sul tronco Va bene Il libro mettiamolo sul letto Dai Ecco No Servina sul tronco come? Ma ci sta Ci sta Ma copre le mele Ma si capisce che ci sono le mele Bello Fa da sponda Che tutto deve essere visibile Va bene così Va bene così Grazie Lilith Ciao carissimo Ciao caro Lilith Allora abbiamo finito la casa di Fuffi Questo è l'esterno E questo è l'interno Allora questo si fa in un attimo credo No no Quello è un'altra volta Mille volte No No quello è un'altra volta Facciamolo che ci vuole Ragazzi facciamo pure il campeggio di Bonnie Ma si Ma siamo un po' stanchi Lo facciamo un'altra volta Non sono così Che veste di carta E gli altri di plastica Si Va bene Allora per adesso Questo La casa di Fuffi La mettiamo da parte Voto ragazzi Secondo voi Vi piace? Se non è più bella di una delle cose di ieri Allora Gli interni sono bellissimi Gli interni sono stupendi Vabbè ormai lo stiamo facendo ragazzi Abbiamo deciso che facciamo tutto oggi Ci leviamo il pensiero Allora Allora Perché queste buste non sono tre spende? Perché non ne fanno tutte di carta così? Allora apri La busta numero uno No dammi la scatola Apri la busta Come sei e mezzo Ragazzi come sette e mezzo Sarcon Cinque No ci rimango male Giustamente bisogna essere stretti Quei vuoi Tieni la scatola Allora Dobbiamo fare questo Praticamente è Il campeggio di Bonnie Questo è un set molto più piccolo Si E dovremmo Però guardate gli alberi qua come sono Per questo ha le buste di carta Perché è più ecologico Capito Vedete qua c'è tipo Bonnie che scava E trova i soldi Vedete qui si può scavare Ci sono le fiamme Guarda Ci sono le fiamme Questo si fa easy Esatto Però ho una sete Che sto morendo Eh lo so Puoi prendere un bottiglietto d'acqua Dai Che sei carino Ma io sono stanco Malato Non sei malato Stai meglio di me C'è la bilirubina C'è la bilirubina Dai vai a prendere Il coso Allora E nel frattempo io Ho visto che c'è Mi dice di montare Bonnie Montiamo Bonnie Tra l'altro Bonnie Nei precedenti Animal Crossing Era il personaggio preferito di Raiden Vero Raiden? Beh preferito no Però era uno dei miei starter Per cui Era carino Ti piaceva Era carino Sì era carino Il mio preferito in assoluto Era Cubetto Però non mi capitava mai Io ce l'ho Cubetto Nel mio villaggio di Animal Crossing New Horizons Eh mi piaceva perché era quello Il logo della Gamecube Ok Del Gamecube Bonnie Bonnie non ha niente in testa Cioè Bonnie ha un buchetto Ora le mettiamo un fiocchettino a Bonnie Ragazzi siete d'accordo che mettiamo un fiocchettino a Bonnie? Si ce l'ha No no Il ce l'ho qua è avanzato dalle altre volte Oppure un fiorellino Ora le lasciamo il buco in testa Perché è un coriglio Magari ne hanno provato a spararlo No dai Raiden Che cose orribili che dici Io sono vegetariano Però si fanno queste cose Le fanno Che te devo dire Mannaggia le unghie lunghe Ragazzi settimana prossima Non le vado a tagliare Va bene No Sì 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 Non riesco a fare niente Cioè è proprio un È un handicap Guardate Ci ho messo il fiocchettino Gli devi mettere sta cosa in mano Che non so cosa sia Scusate Che cazzo è questa cosa Non capisco cosa sia È una torcia È una specie di torcia Nel gioco non esiste questa cosa Non credo sia questo Il pezzo di legno Oppure sì C'era questo per forza Non ce n'è altri È proprio questo Raiden Anche Gino è carino Sì 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 Anche Gino è carino No ragazzi il buco in testa Non l'accetto Vai Mettiamole questo in mano Qualunque cosa sia Un oggetto che non c'è neanche nel gioco Ah È il marshmallow Ah È il marshmallow per Alcune cose sono proprio Accennate Abitante preferito Se non uno Ne basta top 3 Aurora Cubetto E Carmelo Vabbè io ti dico Bonni Salomone E Cubetto Raiden tu hai bevuto un po' Giusto ieri ci dicevi che bevi pochissimo Oggi ho bevuto quasi due litri Ora me ne bevo un altro mezzo litro Ora deve bere di più ragazzi Deve bere di più quest'uomo È un uomo disidratato Speriamo che sia solo questo Marshmallow Ragazzi sembra un marshmallow Non so se siete D'accordo Ma comunque sono quasi tutti carini Oddio C'è chi non lo è però Tipo io odiavo porro Alli Tutti gli alligatori Sono un po' Non so non mi piace Alli è una delle mie migliori amiche Sì ma si piace Allora stiamo facendo il falò Sì io Il museo non l'ho finito Mi mancano ancora Opere d'arte Porra abbiamo imparato ad apprezzarlo Sì Mancano ancora opere d'arte Onestamente Dopo quanti anni sono usciti Quattro anni Io ancora vedo Questa non l'ho capito Questa non l'ho capito Cosa? Perché così? La fiamma La fiamma è messa strana È un po' blandina no? Mettila al centro Questa è la fiamma? È così? Scusate Scusate No scusate Ora dobbiamo parlare onestate Grazie Ricky Jack Fiamma vera Grazie Ricky Jack Grazie Ricky Jack Ma vi pare che questa è una fiamma? E chi se? Sputo? Cioè non lo so Si sono sprecati qua con questa fiamma Non lo so Potevano metterne almeno due Ce n'è un'altra Ah ce n'è un'altra Si ma non si mette C'è un'altra ma non si mette E questo è Che minchio una Allora vediamo Questi qua Uno Quindi questo si mette da parte abbiamo detto Non Eh qua sbaglio ci fu perché Eh sì errore ci fu Già subito sbaglio? È una fiamma quando tira vento Allora Ma non si può comunque L'altro pezzo Questo più grande E' stato più grande Ok Va bene Eccola ci siamo Una serata anni 80 e 90 Se non sbaglio avete il bisogno di farla Sì 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 La faremo Sì 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 La faremo? Che poi in che senso? Eh musica Ospiti Invitiamo qualcuno Che ti posso dire io Pubblicità Raff Raff Possiamo invitare Raff ragazzi Che ne dite? Cristina Davena Da dove la viene sicuro? Eh Stiamo facendo la tenda Stiamo facendo la radio Un'altra radio Bene C'è la radio C'è la tarantola Attenzione Dov'è? Eh no Ragazzi La tarantola La serata anni 80 e 90 Vengo apposta da Firenze Ve lo giuro No ma si fa così No ma si fa così Nel senso in live Non tipo serata disco Ma è più serata anni 90 che 80 Ecco gli anni 80 chi li ha vissuti No infatti No quando si dice Figli degli anni 90 Non si intende quelli nati negli anni 90 Eh no Si intendono i nati negli anni 80 Perché chi è nato negli anni 90 Non ha vissuto negli anni 90 Come noi non abbiamo vissuto negli anni 80 Quindi Voi che siete nati negli anni 90 Siete figli del 2000 Perché avete vissuto il 2000 Esatto Noi pure ne abbiamo vissuto il 2000 Però non da bambini Da ragazzi Niente Vi sto facendo le tre ore E' stata la tarantola L'avete vista? Basta Allora questi vanno Uno che va Intanto facciamo vedere Che questo è l'interno della tenda Dove c'è il lettino Questo dovrebbe essere una specie di lettino E la radiolina E adesso Raiden sta montando il coso Ma questi Pure Va bene Uno E l'altro Eccolo qua Buonasera signori presenza Sono proprio io Salvatore Cinquegrana Salvatore Cinquegrana Salvatore Cinquegrana Conosciuto su web Come potenza surreale Ex membro dei mates Come procede la serata? Ma è lui veramente dove? Vediamo Salvatore Cinquegrana Cinque cazzi Ma la smetti Salutiamo surre Che noi lo conosciamo E so che ci segue Ogni tanto Per cui Salvatore Cinque cazzi Allora guardate che chiuti Ah la tenda Guardate Quanto chiuti Allora questa è la tenda Che si unisce Alla zona Del coso Carino Carino è carino Carino è carino È carino E lo devi unire proprio L'ho uniti Ah li ho uniti Molto bene Via Altra piattaforma Raiden Altro pezzo di codesto Infatti poi ci mettiamo Bonny qua che fai Così Fai marshmallow Fa l'entrini Va bene No non fa l'entrini Porca Vuoi stare attenta Per Dio? No Io invece sono il gatto Sul cubo Ma ma così si brucia Vedete Bonny che fa I marshmallow Ti li dai cazzo Ma io devo fare vedere Le cose che faccio Allora qua Uno Spero di non essere l'unica Ma vedere la tendina Così mi fa ricordare Quando a scuola Simulavo i campeggi Con la cancelleria Eri l'unica Assolutamente Eri l'unica Quelli li chiamavamo Emarginati Emarginati Esatto Chi è? Chi è che la scrivete? Sara Weirdi Sara Oppure con le carte Fecevi i castelli con le carte Mai fatto Io ogni volta che vedevo Che gli altri compagni Fecevano le carte Ovviamente Li bullizzavo Com'era giusto fare Comunque Guardate C'è la Il retino Secondo me Ha più senso Che Bonny Tenga in mano il retino Non è il marshmallow Del cavolo Giusto? Ma faglia tenere in mano il retino Ma Ragazzi siete team retino O team marshmallow Ma poi che marshmallow è che è pari al suo peso corporeo? Scusa Noi vediamo cosa dice la scatola Perché la scatola Fai affidamento troppo troppo alla scatola No lei è la scatola Noi vediamo Lei col marshmallow Marshmallow E il retino è messo dentro La scatolina Ma anche lei col retino Lei con L'ascia per andare a ammazzare La tarantola E lei con La pala Quindi ognuno La tarantola La tarantola non le ammazza La tarantola sono bellissima Io ne ho tenute con in mano questa estate È stata una bella esperienza Si Si chiamava Jessica Vabbè il nome Che poi i marshmallow Neanche ci sono Allora in realtà c'è un falò Con i marshmallow Però tu non li tieni in mano Ogni tanto non gli escono loro? Di loro sponte? No 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 Minchia status Scusate ho ancora un po' di tosse Che vi devo fare No non è È a libera interpretazione Come preferite Allora io non sono tanto per il marshmallow Però Per adesso Per adesso lasciamola così Reden sta facendo la collina Fai vedere la collina? Si faccio vedere la collina Pierluigi collina Ecco Non sopra Un attimo Stai mettendo il ceppo E dopo però continui Cioè il prossimo Parte La prossima busta La faccio io Si Stai facendo la conifera La conifera Detta altrimenti Conifera Conifera esatto Bravo Come si dice Facocero Si Non ho detto mai nessuno Facocero Ma nessuno conifera Soprattutto Nessuno conifera Conifera significa Cono della fiera Ebbiamo potuto dargli Una di quelle lattine O snack Che gli abitanti Tengono in mano A caso Piuttosto Ragazzi L'hanno fatto In collaborazione Con Nintendo Fino a un certo punto Non l'hanno fatto loro Poi hanno fatto loro E senti Che importanza ha Se questa cosa c'è O non c'è nel gioco L'importante è che Si cazzi Ecco Ci devi mettere la tarantola La tarantola si appoggia O si infila Si incastra Eccoci Guardate Guardate che carina Non è ancora completo Voglio vedere Per adesso Perché scusami Sennò che stai facendo Vedete La collina con la tarantola Super carina Super carina Super carina Con Nintendo Non si fotte Posso continuare io Ragazzi Domande Apriamo di nuovo le domande Parliamo di altre cose Avevi detto tu La prossima busta Oh hai ragione Lo stavi facendo tu Mettici tutti gli attrezzi dentro Che attrezzi significa Uno Uno E che altri attrezzi ci sono? La retino Il retino L'asta Ma il retino è un retone La pala E l'ascia La tarantola va sul fuoco No No Eh? E basta E' finito così Si deve A sganciare Aganciare Al coso A questo Proponete un argomento Si deve agganciare Fatto Poi Attenzione Non è ancora finita La busta La busta finisce Aspetta Come l'hai agganciato Fammi vedere Così Giusto Però aspetta Vabbè Vedete Cioè C'è lei così E qua Si vede Il coso così Però non lo so Da quale lato si guarda Così forse Non so Non mi convince Tutto ciò E effettivamente Nel disegno com'è? Il disegno E' totalmente Diverso Tre Vorrei che la tenda Fosse visibile frontalmente Così non mi piace Vabbè Poi lo giro Come Nel disegno non è così? No La tenda Cioè Perché tu lo devi guardare Così davanti Ed è strano Capito Perché la tenda La vedi di lato Beh Poi li puoi spostare Come vuoi Li posso spostare Come voglio Fino a un certo punto Fino a un certo punto Questa che cos'è Non ho capito Cosa sto facendo Di grazia? Allora io intanto Ah ecco Risposto così Raga Mi piace Mi piace di più Cosa? Mi piace di più Che c'è la radiolina Cosa è un molino? Cos'è? Cosa stai facendo? Stai facendo la collina Con la cascata Ah Con l'enterecolisma Da dietro? Con l'enterecolisma Sì Domanda collezionistica L'ho recuperato Ultima 4 Del Master System Che è? È Anamix 77 Ma sai che Ultima 4 Per Master System Non so se ce l'ho E non so neanche Se ci fosse Ultima 4 Per Master System Però è una domanda Molto specifica Quindi probabilmente L'ho detto io L'avrei detto tu Mi pare strano Attenzione Mi sto prendendo Delle libertà Rispetto al disegno originale Cosa che finora Non ho Non ho fatto Vedete? Così Così è più senso Vero? Così è più senso Che lo si vede di fronte In quel modo Non mi piaceva Così è più carino In quel modo Era strano Vedete? Cioè Uno non si deve fidare Al 100% Di quello che vi dice Il manuale L'enteroclismo L'enteroclismo Non lo so Devo correggerli io Sti manuali Alla Lego Sto facendo la cacata La cascata Sto facendo la cascata Raiden È veramente piacevole Montare queste cose Il divertimento è questo La cacata E poi la cosa bella È che viene pure Il cosa corino La cacata Ha pure lo schizzo C'è ed è abbastanza raro Specie con una specie Di storia di Britannia Nella confezione Tipo Ho capito Non mi ricordo Se ce l'ho Non te lo so dire Dovrei controllare Devo fare un database Per Sigmaster System Perché l'ho perso Tipo ieri Il mio fratello Ha scoperto Che ha un pezzo Da collezione Rarissimo Beh raro Raro Abbastanza raro Praticamente lui ha Un IQ Un IQ Che cos'è È un Nintendo 64 Uscito solo in Cina Sì Che Praticamente ha la forma Di un contro Dentro un controller Sì Ma questo cos'è Questo è Nelle attrezzi E l'asta Ah Beh se la seconda Palla la mettiamo Troppo stop Troppo stop Vabbè sì Mettiamoli Se ne frega Questi sono i pezzi avanzati Questi sono i pezzi avanzati Perfetto Perfetto Con i pezzi avanzati Si può costruire Il Lego NES Scusate ma C'è qualcosa di strano Che mi rappresenta questo Eh non lo so E questo Questa è la cascata Eh stai spiegando Cosa è l'IQ Nel frattempo Monto la seconda bustina Spiega perché è uscito Questo Questo Nintendo 64 Speciale in Cina Perché in Cina C'è il divieto Di console straniere Fino a dieci anni fa 15 anni fa 12 anni fa E quindi Nintendo ha girato L'ostacolo Facendo uscire Questa cosa Che non era Una vera e propria console Ma Un controller console Che si Con un sistema Una chip Che si collega Direttamente al televisore E fa da console Cosa che poi La chip controller Girava Esatto Il divieto Perché non si potte Con Nintendo Un console Si chiamava IQ Scritto IQ Forse Forse era Sì Ique Non lo so Off topic Cosa pensate Le foto di Kate Di Non so di cosa Tu stia parlando Che cosa è Kate Grazie Isabel Ciao carissima È morto il microfono Tuo Il mio sta pure morendo Vogliamo usare quello Ma perché Che foto ha fatto Ci sentite ragazzi Ci siamo Diteci se ci sentite Sì Bene o male Lo so che sentite adesso Più basso Peggio Però abbiamo dovuto Modificare Mi sono scordata Di caricare I microfoni Ragazzi Prima di fare Sta live Perdonatemi La prossima volta Li caricherò Che ha fatto Kate Ma Kate Middleton Ma Kate chi Middleton Kate principessa Ah ho capito Ho visto questa cosa Cioè che tipo In realtà è scomparsa Nessuno sa chi è lei Veramente Ok Veramente Ho detto Sta cosa È una cazzata Da complottare Mi pare sì Una cavolata Da complottare Credo Eh ragazzi Non vuole dire Cavola Sto facendo giusto Ma chi lo sa Raiden Andiamo così a casa Tu leggi i commenti Mentre adesso Io sto montando Si è operata A gennaio Ma che parli piano Tu Eh vabbè Devi parlare Da streamer Non voglio gridare Ma nemmeno A bisbigliare Ah Cosa sto facendo Non lo so E soprattutto Neanche So perché Lo sto facendo È stata operata Da allora Non si è fatto A più vedere Una foto vista Recentemente È in dubbio Che sia originale O recente Perché è ritoccata Può essere Che semplicemente Non si vuole Presentare al pubblico Perché si è operata Di qualcosa Non lo so E quindi Ha usato Una foto vecchia Ritoccata Tanto per dire Vabbè Tutto a posto Però non rompete la minchia Perché non vi faccio vedere Foto recenti Ragazzi Può essere Non lo possiamo sapere Ma cos'è Che sto facendo Ma è giusto Devi murare dentro Viva Questa cosa Che stai facendo Questo è proprio Trust the process Si Esatto Bene È la stessa cosa Che ho fatto da quel lato Un'altra collinetta Però con qualcosa dentro Che non ho capito Bellina pure Sta cosa del campeggio Sì ma in realtà È più carino È proprio Tutti i set Sono molto più carini Di quanto Potessi pensare Scusa un attimo Eh infatti Si è scusata Dicendo che Si diletta Nell'editing Di foto Ogni tanto Evidentemente Non è brava Perché si vede Se le ha fatte Lei Le foto L'editing Mi volete dire Questa mi pare Una cavolata Ma vabbè Ma quello che Ok Si vede Volevo Che sto facendo Sì Per me È aberrante Che esista La monarchia Questa è una cosa Ma lo sappiamo Ma è proprio Una cosa Aberrante Posso capire L'oligarchia Ma la monarchia No No scherzo Manco l'oligarchia Ok Possile Non devi guardare A me No stavo vedendo Devi guardare All'oro Io nel frattempo Qua Faccio Eh lo so Però non stanno Scherzo Ma cosa devo Ah Questi Qua Bene E qua Sì Pupazzo pazzo Abbiamo bisogno Di qualcuno Che editi video Però non una cosa Così Cerchiamo un professionista Compartitaiva E tutto il resto Per poter fare le cose Allora il mio problema Allora il mio problema È che io ho un po' Come posso definirla Un po' La mania del controllo Sui miei video Allora quella pure io Cioè i video li devo fare io Vorrei che Vorrei Un editor Per i video più Più scialli Ma per tanti video Io mentre registro So già come li devo montare Ah è scritto Chiamala Ho capito Chiamate No perché Stavolta il test è ancora più piccolo di ieri Perché la schermata Dovevo guardare là Là si vede benissimo Sì vabbè ho capito Era una battuta Pupazzo pazzo Pensavo Che ne so Magari si è Perché sapevi Che cercavamo Ah chiamala Per fare i video Sì sì no chiamala Vabbè sì Ovviamente no Però sì Stiamo cercando ragazzi Qualcuno Però Compartitaiva Un professionista Alto livello Ovviamente Ben retribuito E tutto il resto Però mi serve Un occhi cazzi Ecco Sì Voi ci scherzate Però gli editor video Per gli youtuber Ragazzi È un mestiere Bello e buono E anche ben Remunerativo Perché per esempio Io L'anno scorso Avevo chiesto A un editor E Ho detto Vabbè poi ci sentiamo più in là Perché ancora Non ne avevo troppo bisogno Adesso invece mi serve Perché devo fare tantissime cose Quindi sì A distanza di un anno Adesso lui Ha i dipendenti Sì E mi ha detto Non so se ho tempo Di fare Perché fa un sacco Di video Per tanti altri E ragazzi Cifre allucinanti Bene così Sono contento Vuol dire Quello lavoro Che sposta Sposta Allora Questa Praticamente Voi sapete Che ogni tanto In Animal Crossing Anche nelle rocce Sono nascosti i soldi E infatti Qua nel buco No Non quello che Fributtavano Aspetta Qua nel buco Ci mettiamo I soldi Nascosti E sopra Ci mettiamo Il La roccia Ma questa Attenzione A questa cosa Questa mi piace tanto Carina Questa è una cosa carina Che si sono pensati Cioè il fatto che tu Scavi Negli alberi Trovi i soldi Questo è carino Lo apprezzo tanto Questo è super carino Ma sto coso che è una roccia È la roccia Cioè Prendi a palate la roccia Oppure accettate Bravo esatto Prendi a palate Ma sono soldi veri Sì 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 Sono soldi veri 100 euro Un bitcoin Che varrà Quei 67 mila euro Facezzi ragazzi Guardate Ah però è appoggiato Mio Dio No Come è appoggiato È appoggiato È appoggiato Perché tu devi poterlo scoperchiare Perché tu In teoria Poi vai con la pala E fai tonk La levi E ci sono i soldi Capito Sì C'è la pala Sì 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 Qua abbiamo la pala E questo è appoggiato Raiden Ricordiamoci che è appoggiato No Bandito Ita Non lo conosco No no Non conosco nessuno Nell'ambito tatuaggi Cioè pochissimi Non perché sono di Catania Ce ne saranno tanti Conosco zona caos Che è dove ho fatto questo tatuaggio Nel 2018 Ma non è che conosco bene i proprietà Mi ricordo neanche come si chiamino L'ho fatto lì Perché l'aveva fatto mia sorella lì Sono andato Effettivamente mi sono trovato molto bene Però Non sono uno che conosce Perché a Catania ci sono un sacco di attività Professionisti Artisti Non è detto che li conosca Io il mio tatuaggio l'ho fatto L'ho fatto a Cefalù Sì Già lui lo conosciamo meglio perché È Peppe Gallagius Peppe Gallagius L'ho fatto a Cefalù E anche Questo me l'ha fatto invece Alessio Nide Luca Che è un altro che Già lui lo conosciamo meglio Perché in quattro sedute In un mese di questa cosa Giustamente prendi confidenza Fai amicizia Come si chiama lo studio? Lo studio Peppe Gallagius No Si chiama Zona Chaos 2 No non si chiama Zona Chaos Non l'ho fatto da Zona Chaos No 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 Lo so È che non so i nomi Finito Quando mi fanno i prelievi È un problema il tatuaggio No non è assolutamente un problema A parte che c'è quest'altro braccio Me l'hanno fatto qua Ma comunque Non è assolutamente un problema L'importante è che si vedano Ah Raiden Allora è finito Ma praticamente Vedete Qua c'è l'asta Eh L'asta si infila qua Ah E gli Ah E vedi che non era un'asta Però non c'era il disegno L'asta si infila qua E poi superi il culo Tipo che Lei Salta Con l'asta Con l'asta Ma cavolo che lo infili? È giusto vai Ma non entra Nel senso No No così no Devi fare tipo così Ah tipo che seduta Tipo che seduta No solo con una alzampa Sì Verso di verso di Ma no Forse deve essere molto più infilato O forse al contrario No vedi là è così Ah in mano Ah ok Noi la stiamo infilando Aspetta Nell'altra mano Quindi togliamo il marshmallow Per farvi vedere Lei tiene sto coso in mano E che ne so Mi sono affidato Il disegno Di Midna Ok Però ci stava Che era anche Vedete E fa così Tipo che attraversa E sbatte fortissimo Sì perché abbiamo messo qua Aspetta però L'hai allungata di qualche centina Adesso è un metro e ottanta Accorciamola Adesso è tornata a un metro e sessanta Molto Salta tenendola a ste mano Non nel culo Beh sai com'è Secondo come uno gli piace Ma sai che è anche carina Tenerla così Solo che tu L'hai esposta per tutto Questi sono tutti pezzi avanzati Non può essere Sì sono No non può essere Ah no ancora continua E allora no Tu dici di Tu dici di non farla Tutta in lungo No farla come spacchio vuoi Però Per adesso facciamola Come cazzo Se lo capito Perché così mi piaceva in realtà Eh Capito Ma casomai ci passiamo dopo Sai che così è carina Allora L'asta però qua così Lei che vola Non mi fa impazzire Ma l'asta lasciala però L'asta la lascio E l'asta non ha senso tenuta Va bene va bene Ok Però mi piace questa divisione così Ah infatti l'asta è messa dopo Vedi Qua è messa dopo Cioè nell'ordine delle istruzioni L'hanno messa solo a questo punto arrivati Cioè prendila dalla cassetta degli attrezzi E mettila Non quando l'ho montata io Cioè è carina anche la disposizione loro Cioè la disposizione loro È Così Così è più carina Però con la cosa girata Forse così è più carina effettivamente Va bene Si fa E allora facciamo così Mannaggia Facciamo di nuovo come era prima Giriamo Così No Bandito Ita No Cioè No Che ho detto Hai mai pensato di farti il taglio di caverli Come il character di Tom Clancy's Wild Wands Che poi avevo fatto un video in cui me l'ero fatti Come quello di Tom Clancy's Così è più carino vero ragazzi Lost Dragon Breakpoint Ditemi se Perché ragazzi non ci vedo questo microfono No lo mettiamo qua a casa Nella collezione Sì sì Arcade 211 Sì sì Arcade Con la palla vicino alla roccia Sì Cioè una palla la mettiamo qua No 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 E ora me la penso se mettere lei Invece di qua col marshmallow Di metterla sull'asta Sì però andiamo avanti così lo finiamo Sì 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 Che ormai manca veramente pochissimo Allora avanti Prendi uno stronzo No non sono avanzati questi No Che settezza lo dobbiamo fare Ancora Vediamo una strunza Prendiamo questo Mettiamo qua Prendiamo uno di questo Un geppo E lo mettiamo esattamente qua Che carino Mamma mia Giazzichiamo i pezzi Ancora ci manca un pezzetticci Ci manca un albero Di ciliegie L'albero di ciliegie Come? Ci sono le ciliegie Ah Ah ma c'è l'albero di ciliegie L'albero di ciliegie Dice razza Guarda che chiudi Le ciliegie 1,2,3 Vida per i 4 anni di Animal Crossing Mentre una live 4 anni sono passati? Ma sì Possiamo fare una live per i 4 anni di Animal Crossing Perché no? Anzi potrei fare il video Animal Crossing 4 anni dopo Cioè delusione totale Il fatto che non l'abbiano supportato Prendi il cazzo però 4 anni sono passati 4 anni Come passa il tempo Eravamo in lockdown Ah maronna da pombano Eravamo in lockdown Ragazzi non scrivete bei tempi Non scrivete bei tempi Allora 1 Non scrivete bei tempi signori Non scrivete Siamo noi per dire quello che dovete Però non dire Allora 1 Ma sai cosa? La scala mi piace di più davanti Sì Siete d'accordo Raiden? Tanto ormai Ragazzi sto iniziando a prendere Quella confidenza Da Staccare le cose E metterle come dico io Questa è una cosa incredibile Ah E ora non riesco a staccarle più Ecco Quel cazzillo non c'era Lo strumentino Ce l'abbiamo noi da ieri Ma non Non Vedete? Io la scala la metto davanti Ma poi si deve mettere il fiore Non so perché Mi piace di più davanti E il rametto E due cose qua Con il fiore E altre che la metto Però aspetta Il cavolo di fossile Rompe le scatole In una maniera incredibile Non riesco più a staccarlo Midna Aia ragazzi Questa cosa mi è costata Tutto Mi è costata tutto Ora con la palestra Ti Eh Non è più carina Con la scala davanti La scala davanti Secondo me Signori Sì E zitti Le ciliegi Invece si mettono Col peduncolo Io non tornerei a quel periodo Manco sotto tortura Ho patito le pene Nell'inferno Tra lavoro Mai smesso di lavorare E casa Vabbè Cioè ognuno l'ha vissuto Che lavoro Che lavoro È Lilith Ah sì Vabbè sì Supermercato Cioè non è che avete fatto Veramente Ma ovviamente Si scherza Ci sono stati Quelli che hanno fatto Smart walking Quelli che Potete fare un reel Velocizzato E metterlo su youtube Non un reel Un video ragazzi Un reel per carità Cioè un minuto Dal tre ore No Si potrebbe anche fare Per il meme Tutto si può fare Alla fine Comunque ragazzi Voglio fare un bordello Di reel Adesso Anche per il mio profilo Personale Voglio fare un sample No per esempio Gli infermieri Ragazzi Certo Dipende il lavoro Che facevate Sì sì Ma no Infatti Che sa Allora Si mette E Messe Frommo Dice a me Un po' mancano Quei tempi No ragazzi No Ma cosa fai Vai metterlo Più indietro Che poi ci sono Sti cosi davanti Però non mi convince Posso davanti Non mi convince Sta cosa Perché in teoria Secondo lui Si deve mettere Di qua Quindi non va bene Così E come no Ah sì sì Va bene No 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 L'albero deve stare Di fronte No 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 Raiden L'albero Non lo puoi Non puoi coprire Quello che c'è dietro Ma sì Ma tu non pensi Fuori dagli schemi Ma tu devi pensare Invece Dentro dagli schemi E allora Lo stummino dietro Se lo Non serve a niente Vediamo se magari Lo agganciamo A qualcos'altro Finito Abbiamo finito Abbiamo finito Il campeggio Di Questa qua Bonnie Questa qua Non mi ricordavo Adesso vediamo come sembra Con l'ascia Vediamo come sembra Con l'ascia Il campeggio Di questa qua Porca Porcaccia Ah Nomi Quel pezzo a destra Quale pezzo a destra Scusa Quale pezzo a destra Però è strano Che vola così Raga Non è strano Sta facendo il Quale pezzo a destra No Questo non è un pezzo Questa è tutta L'altra costruzione Ah Questo è quello Che abbiamo fatto oggi Hai visto Come li uniamo No Un po' di atta No Ma io li unirei Da questo lato No Ha il suo perché Forse deve andare Tipo indietro No Sì Ha il suo perché Questa è molto schematica Troppo di lato No Io questo qua Lo voglio mettere Vicino Forse questo Lo metto Dall'altra parte Di quelli Che abbiamo fatto ieri Vediamo No Ne manca Adesso mancano due set Che ho già ordinato E mi devono arrivare Più uno piccolissimo Non ne avete uno verde in più? No No Sì Beh questo sì Ce n'è uno in più Che si aggancia da qualche parte No Come base Bah magari No Non ne sono avanzate Però magari sono Escono fuori dai pezzi Che abbiamo Dalle altre costruzioni Che abbiamo Aspetta però Questi sono pezzi avanzati Secondo voi Bonnie qua che vola Oppure la metto Coi marshmallow Di Raiden secondo te Bonnie qua che vola così Ma Non me ne frega Nel senso Va bene qualsiasi cosa Un po' Ci sta Non lo so Vola Mi sembra strana Io la metterei Con i marshmallow Infatti sì Qua nascondiamo Sto coso E per questo La puoi mettere C'è la tarantola Con il riletino No Sì Però mi piace Che abbia il marshmallow Così Avanti Facciamole fare il marshmallow Avanti Bonnie Una vita comoda Per te Non ti facciamo fare cose Cose strane Bene Questo Era il Adesso Ragazzi Io mi levo Dalle balls E Raiden gioca Like a dragon Giusto Spostiamo direttamente Il tavolino Sì Per adesso Lasciamo tutto come E poi lo sposterò Di là Bene Grazie ragazzi Ottimo Grazie ragazzi Allora facciamo In free Così Vedete Facciamo vederlo Tutto così No ragazzi Si è perso L'interno Del regalo Si è perso cose Quindi Il pennello Il pennello Non ti preoccupare Lo troviamo Alza I piedi No Ma sa dove Ora È minuscolo Sarà finito Sotto il Casomai ce n'è uno in più Ce n'è uno in più Mi pare Non è Si ce n'è uno in più Eh Usiamo quello in più Ragazzi Mi però si rompono subito Queste cose Non può essere rotto Si è aperto Ma dov'è comunque In grazia Annaggia a lui Dov'è No Impazzito Vede Sicuramente Trattito Che ne sai Che ne sai Io ho sentito Che è rimasto Che è rimasto Un po' Qua Volevo fare vedere Queste cose Così Com'è carino E ieri Per chi non c'era Abbiamo fatto La bottega di Nucca E la casa Di Grinfia Mi Niente Non ti preoccupare Allora Guarda che carini